buon pomeriggio e benvenuti sta per iniziare l'assemblea pubblica di Ateneo duemilaquattordici siete pregati di prendere posto grazie buonasera buonasera a tutti quanti grazie di essere intervenuti all'assemblea tutti coloro che sono qui presenti oggi abbiamo un pomeriggio denso abbiamo un pomeriggio denso perché un'assemblea vuole essere sempre un momento in cui si possa dare al più possibile a tutti quanti la possibilità di intervenire e di ascoltare diverse cose c'è sempre una voglia magari di dire troppo quindi ci scuserete se ci saranno dei tempi stretti da parte di tutti quanti quelli che sono previsti intervenire ai quali li ringrazio a partire da adesso e comincerei proprio chiedendo il primo intervento al sindaco di Trento Alessandro Andreata di poter prendere la parola grazie buon pomeriggio a tutti un saluto innanzitutto alla retrice Daria De Pretis al presidente dell'università Innocenzo Cipolletta e naturalmente a tutti i partecipanti a questo momento a questa assemblea partecipanti a vario titolo ecco io credo che questa assemblea d'Ateneo rende visibile e rende palese una cosa una cosa molto semplice spero un po acquisita da tutti e cioè che questa università è una università aperta è un'università che è cresciuta con la città con la città di Rovereto e che ha fatto crescere questa città credo ci sia davvero un rapporto importante positivo di osmosi e diventa difficile anche quasi impossibile credo misurare gli scambi positivi e reciproci di questi decenni questa mattina in giunta ho comunicato ai colleghi assessori che sarei stato con voi e dico ditemi qualcosa che posso magari narrare ma dopo cinque che hanno parlato di rapporti con l'università in questi ultimi mesi e di prospettive per il futuro ha lasciato perdere era una conferma insomma di rapporti di scambi positivi e reciproci l'Ateneo non è mai stato un campus un campus chiuso non è stata una realtà che non ha avuto rapporti con l'esterno credo invece che si possa dire che l'humus ecco l'humus intellettuale che l'università ha portato è stato un humus importante che ha favorito tante cose qualche volta mi chiedo ma il festival dell'economia ci sarebbe stato senza l'università qualche volta me lo chiedo anche del muse che pure è stata un'intuizione importante della politica dell'amministrazione comunale provinciale e poi come sarebbe l'urbanistica come sarebbero i servizi come sarebbe anche forse la direzione dello sviluppo che abbiamo interpreso come città e come trentino io credo che almeno per Trento lo posso dire Trento sarebbe un'altra cosa io credo che sarebbe anche qualcosa non solo di diverso ma anche qualcosa di non sicuramente migliore che vuol dire qualcosa di peggiore naturalmente però il rapporto è perfettibile e io credo che dobbiamo lavorare in questo senso perché studenti e docenti e tutti quanti quelli che lavorano per questo nostro ateneo non trovino qui soltanto un alloggio, una dimora ma trovino invece quello che ci viene sempre chiesto come città e cioè un ambiente e un contesto favorevole, un ambiente e un contesto favorevole, noi diamo molto quello che siamo, la nostra fisicità e anche la nostra qualità dei servizi. Vado rapidamente verso la seconda parte di questo breve intervento che è un esprimere la mia soddisfazione per il fatto che avete scelto di preparare questa assemblea incontrando il mondo della scuola e il mondo del volontariato. A me pare questa è una scelta assolutamente azzeccata nel senso che gli studenti dell'università arrivano dalla scuola e non dico molti ma alcuni molto probabilmente poi alla scuola tornano e quindi scuola e università devono poter andare d'accordo perché fanno parte di una stessa comunità educante e quindi il buon senso ci dice che questa direzione è una direzione giusta. Ma mi pare giusta e apprezzo, voglio sottolineare anche il rapporto università volontariato, cioè il voler aver voluto riflettere su questo perché credo sia un connubio che va rafforzato. In occasione della presentazione del Festival dell'economia ci è stato ricordato da un non trentino, ci ha fatto piacere che forse il dato più significativo emerso da quel confronto tra le varie regioni italiane e per noi provincia di Trento è stato il dato sul volontariato. Abbiamo 22% di volontari tra le persone comprese tra i 14 anni e finché si può andare avanti. È un dato molto importante, uno su cinque di noi, di noi trentini è un dato della provincia, è volontario. Allora io penso che ci sono vantaggi nel volontariato, rapportarsi con l'università perché il volontariato ha bisogno di ricambio e quindi ha bisogno di energie giovani, vitali, anche creative perché si può anche innovare nel volontariato ed è un vantaggio per l'università perché credo che possa avere un contatto come dire con la società concreta, non perché non ce l'abbiamo, può avercelo anche in questo modo e credo anche che il volontariato sia una scuola importante di gratuità e qualche volta dovremmo pensarci non nel senso semplicistico e magari negativo di gratuità, cioè non è il gratis, così senza valore, ma è quella gratuità ben più importante a mio avviso che crea invece un valore più grande, un valore se volete infinito, quindi dal gratis uguale a zero a una gratuità che vale tanto di più e che è un valore davvero grande e che è anche il valore che spesso ci porta a fare anche qualcosa di nuovo. Allora io chiudo dicendo che la città di Trento, penso di poterlo dire, è affezionata all'università, è affezionata al suo ateneo ed è legata anche a doppio filo, noi siamo certi che se cresce l'università, se cresce l'ateneo, cresciamo anche noi, se l'ateneo si impoverisce ci perde anche la città, quindi leggiamolo in positivo e in negativo un di più di cultura, un di più di prestigio, un di più di relazioni, se posso dirlo anche un di più di, non di vantaggio, ma di situazione economica positiva, oppure un di meno. Io non ho dubbi verso quale direzione andare. Grazie. Per queste parole cosa sarebbe l'università, cosa sarebbe Trento senza l'università, ma cosa sarebbe l'università senza Trento e Rovereto? Penso che sarebbe anche questo da riflettere e chiedo al sindaco di Rovereto, Andrea Miorandi, di dare il suo saluto. Grazie. Sì. Grazie Presidente, grazie anche alla rettrice. Io devo apprezzare, devo dire subito che apprezzo molto questa iniziativa, perché avere qui i rappresentanti del territorio, di diverse stratificazioni sociali, di diverse realtà, è importante perché ci fa capire che questo è il nostro Ateneo. Il nostro inteso ovviamente è come Ateneo vicino a noi. Sottolineo anch'io il fatto che la città di Rovereto con la presenza universitaria è cambiata moltissimo. La dimensione internazionale si è respirata fin da subito e io apprezzo anche il passaggio della rettrice quando ha parlato in questi ultimi giorni del dovere di aprire al mondo ancora più la nostra università e quindi avviare con forza un processo di internalizzazione. Abbiamo bisogno di questo. Lo dico da sindaco di una città industriale come Rovereto, una città ricca anche di forze artigianali che hanno necessità in questo momento storico di trovare nuove vie di uscita. Anche il tema dell'assemblea a cui posto da voi mi sembra molto interessante perché parlare di volontariato al giorno d'oggi significa stare al passo con i tempi. È ovvio che stiamo ribaltando il rapporto tra governanti e governati, lo stiamo ribaltando in una logica orizzontale di collaborazione. Penso al rapporto pubblico privato come deve sempre più crescere come opportunità nuova di sviluppo, come le imprese devono giocare con le istituzioni pubbliche queste. È ovvio che quindi l'università è un supporto importante per queste nuove vie di sviluppo. Io dico anche che ci sono sfide già a giocarsi ancora, sono diciamo alla fase embrionale come il progetto della meccatronica sulla città di Rovereto. Anche questo progetto è per noi un punto di riferimento, noi intesa come comunità trentina, non solo quella roveretana. Ed è intelligente questo progetto perché va sulle vocazioni, va a prendere le vocazioni della nostra città che sono quelle delle produzioni meccaniche, cerca di trovare appunto vie di uscita nuove. Rovereto si vuole candidare ad essere laboratorio a cielo aperto, diffuso, essere quindi un punto territoriale d'eccellenza. L'ultimo passaggio è sulle scienze cognitive. È una perla, ce la vogliamo tenere stretta. Per noi è stata un'importante opportunità di crescita collettiva. Le scienze cognitive Rovereto ci hanno permesso veramente di respirare un'area internazionale. E anche qui abbiamo progetti con l'università, con la provincia importanti, faremo la nostra parte di sicuro. E allora un'assemblea è anche il momento per ringraziare le istituzioni che stanno dando questa grande opportunità alla comunità di Rovereto. Ovviamente la provincia autonoma di Trento e l'università. Io vi ringrazio e complimenti ancora per questa bellissima iniziativa. Grazie. Grazie Andrea Miorandi, sindaco di Rovereto, dove siamo ben sistemati. Adesso ho il piacere di chiamare la nostra assessora all'università di ricerca, Sara Ferrari, per il saluto. Grazie. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Non vi nascondo l'emozione di essere qui oggi e vedere rappresentata plasticamente la comunità trentina con la quale evidentemente quest'università deve rapportarsi. Non vi nascondo anche che sento profondamente la responsabilità del ruolo che mi è stato assegnato. Io credo che la provincia debba essere il soggetto che facendosi carico del governo di questo territorio, contemporaneamente si assume anche la responsabilità del dialogo tra questa istituzione che ha fortemente voluto più vicina a sé di quanto non fosse prima e il resto del territorio. Io dico spesso quando vengo intervistata che, vabbè io ho studiato all'università di Trento, per cui è anche la mia università questa, ma vorrei che questa fosse l'università di tutti i trentini, abbiamo parlato della città di Trento, della città di Roveretto, evidentemente questa deve essere l'istituzione di tutto il nostro territorio, di tutti i nostri cittadini. Vorrei che noi facessimo sempre di più uno sforzo, tutta la comunità scientifica, ma non solo, tutti i soggetti che hanno responsabilità di vario genere in questo territorio, a far sì che il cittadino comune trentino comprendesse l'importanza della forza che ha questa istituzione per lui, che riconosca in questa istituzione qualcosa che serve anche a lui, qualcosa nella quale il cittadino possa riconoscere un'interlocuzione, possa capire che questo territorio trae da questa istituzione una forza notevole. Io non mi preoccuperei e non mi preoccupo quando sento la polemica che l'accordo di Milano ha provincializzato questa istituzione rendendo la schiava della provincia. È un ragionamento, un timore lecito, mi sento di dirvi che non è così. Ci sono strumenti, quale quello dell'intesa che abbiamo appena ad esempio raggiunto, guardo la rettrice, in maniera positiva nell'ultimo accordo che abbiamo siglato sul personale. È uno strumento che consente tra l'istituzione provincia, l'istituzione università, nella loro reciproca autonomia, di trovare il luogo di chiarimento, il momento in cui ci si accorda e le scelte raggiungono la condivisione. Qualora questo non si raggiungesse o non si fosse raggiunto, l'università avrebbe tranquillamente potuto ad esempio entrare dentro il patto di stabilità nazionale. Evidentemente se invece l'accordo si è trovato è perché questo portava convenienza ad entrambe le istituzioni, ma soprattutto all'università che evidentemente avrebbe potuto serenamente compiere un'altra scelta. Lo dico semplicemente perché è su questa strada che vogliamo lavorare, vorrei fugare ogni dubbio. Vorrei anche dirvi che sono stata recentemente a Roma a parlare con il sottosegretario Reggi e sul tema della scomparsa dell'università trentina a seguito della delega da determinate risultanze di classifiche nazionali eccetera e questo comporta evidentemente anche tutto il ragionamento sul riparto dei fondi premiali, ma ho trovato non solo un'ampia disponibilità a comprendere questo problema, ma anche a riconoscere che l'assenza dell'università trentina dentro le classifiche italiane porta un di meno al prestigio dell'università italiana in generale e quindi la consapevolezza piena anche a livello nazionale del gioiellino che noi abbiamo qui in casa e dunque insomma su questo abbiamo trovato una disponibilità a risolvere la questione entro breve tempo. Altrettanto sul tema dell'internazionalizzazione, come ho detto alla stampa anche oggi, noi avremo ieri, abbiamo questa occasione nel semestre europeo di avere la presenza qui della conferenza della Unione Europea, della Commissione Europea che presenterà qui e si confronterà qui a Trento nell'autunno prossimo sulle politiche, sulla policy da intraprendere rispetto alle borse di studio Marie Curie, non è secondario, non è da sottovalutare il fatto che la Commissione Europea nel semestre italiano abbia scelto Trento come luogo in cui confrontarsi e aprire il confronto su un tema comunque così importante che non vi devo spiegare perché voi sapete perché, ecco, quindi io vi ringrazio per questo invito, lavoro in questa direzione, sono volentieri a disposizione come in un ruolo anche di mediatrice se serve, non voglio essere troppo arrogante in questo, ma tra il mondo, perché io credo molto in questo, il mondo trentino nelle sue varie sfaccettature e questa istituzione, penso di poter anche interpretare così il mio ruolo, grazie. Ringrazio Sara Ferrari per l'apporto che ci dà e per il colloquio continuo che possiamo avere con tutta la provincia e per i risultati che stiamo conseguendo e questa assemblea vuole essere proprio il momento in cui l'università si confronta con la comunità locale, con la un po' per dire quello che fa, quello che intende fare, un po' per recepire quelle che sono le istanze, le problematiche, spunti che possiamo ricevere noi stessi perché, come è stato detto, noi non siamo avulsi da questo territorio, ne siamo parte anche se ognuno di noi ha poi il mondo come riferimento in generale. L'anno scorso noi avevamo fatto questa assemblea parlando dell'università come fabbrica del futuro perché lavoriamo sui giovani che sono coloro che sarà la classe dirigente di domani, lavoriamo sulle ricerche di base che sono le basi della tecnologia che domani ci riguarderà. Evidentemente l'anno scorso era una prima esperienza, l'avevamo fatta subito per rispondere al dettame dello statuto e poi ci siamo preparati per la seconda assemblea che è questa. Questa seconda assemblea abbiamo voluto che sia preceduta da incontri tematici. Abbiamo pensato che l'idea di fare un'assemblea ogni anno, ogni 365 giorni e poi non vedersi più all'interno di questi 365 giorni non era il miglior modo per condurre un'assemblea, sarebbe stata una cerimonia dove si celebravano i fasti dell'università oppure si sarebbe dato luogo alle critiche nei confronti dell'università ma il tutto poi si sarebbe esaurito in queste due o tre ore e ci saremmo rivisti tra un anno. Allora abbiamo pensato invece un nuovo sistema di fare questa assemblea, di farla precedere e seguire da incontri con le diverse comunità in maniera tale da avere un momento di confronto per vedere che cosa si è fatto insieme, che cosa si può fare, cosa va bene e cosa invece è da correggere. I primi due incontri che abbiamo fatto, come è stato anche ricordato, riguardano il mondo della scuola e il mondo del volontariato. È stato molto interessante per chi ha potuto seguirlo e chiunque lo potrà seguire perché sul sito ritrova questi momenti che sono stati ripresi e quindi sono sempre fruibili da chi li vuole vedere, perché questo ci ha consentito di identificare non soltanto carenze e alcuni punti dove possiamo migliorare quello che già facciamo, ma anche nuove iniziative, nuove proposte e quindi abbiamo pensato che l'assemblea era anche il momento in cui noi potevamo in qualche maniera tirare le fila di questo discorso. Evidentemente non ci fermeremo qui perché finita questa assemblea incontreremo altre comunità del Trentino che possono essere le imprese, il mondo del lavoro, il mondo della cultura, il mondo dello sport, le amministrazioni e altre ancora, in maniera tale che l'evento assemblea sia il momento culminante di un processo che duri tutto quanto l'anno e consenta di tirare su delle proposte, delle iniziative che poi ci sarà il tempo di portare avanti. In questa maniera noi pensiamo di integrarci meglio con il territorio, sempre rimanendo ognuno evidentemente nelle proprie esperienze, nelle proprie capacità, ma di avere un dialogo continuo e proprio per avere un dialogo continuo ricorreremo anche alle nuove strumentazioni tecnologiche, quindi cerchiamo di fare un sito, stiamo lavorando e cercando di capire come farlo nel miglior modo possibile per poter avere da parte di tutti quanti la possibilità di esprimere alcune proposte, di dare alcuni consigli e noi stessi di recepirle e magari perché no, di testare qual è il gradimento di alcune soluzioni. L'università in questa maniera diventa un grosso orecchio che può ascoltare tutte quelle che sono le istanze del territorio, non ci pensiamo certo di risolvere tutti quanti i problemi, ma pensiamo in questa maniera di poter progredire noi e dare un miglior contributo a quello che è il territorio. Ovviamente questo modo di fare l'assemblea è sperimentale perché stiamo cominciando e quindi vale anche il principio che chiunque abbia dei suggerimenti da darci per poterla portare al miglior modo possibile in modo da rispondere allo spirito più che alla lettera del nuovo statuto che era quello di avere dei momenti di raccordo diretto con tutta la comunità. Quindi vi ringrazio, di questo vi volevo parlare, di questo nuovo modo di fare l'assemblea nella quale cercheremo di tirare le somme di questi incontri, però vi daremo anche alcune informazioni di quello che stiamo facendo. Inizieremo proprio adesso con la parola a Daria De Fredis, la rettrice dell'Università perché vi parlerà anche del piano strategico che è un primo atto dello statuto che è stato elaborato e che io ringrazio tutta l'Università per questo patto. A te Daria, grazie. Grazie. Grazie al Presidente, permettetemi prima di iniziare a parlare brevissimamente, lo prometto, del piano strategico, la precisazione credo sia necessaria perché è un documento molto grosso. Permettetemi di ringraziare il Sindaco di Trento, il Sindaco di Roveretto e soprattutto in particolare vorrei dire l'assessora alla Università alla ricerca, Sara Ferrari, per le loro parole. E direi che in particolare le parole del nostro assessore all'Università non hanno bisogno di nessuna aggiunta per illustrare lo stile dei nostri rapporti, che è uno stile, come avete sentito, molto leale e di grande attenzione da parte della provincia nei nostri confronti, come si è manifestato anche nel patto di stabilità che è stato ricordato da Sara Ferrari, che abbiamo appena concluso Università Provincia e che ci consente davvero di poter contare su risorse essenziali per la nostra vita e il nostro sviluppo. Bene, detto questo vi racconto molto brevemente del nostro piano, potete vedere le slide così sono più schematiche e più semplici. Questo è un piano strategico che è stato elaborato nel corso di quest'anno da tutto l'Ateneo, come ricordava il Presidente, è un piano che ha predisposto il Senato e che io ho sottoposto al Consiglio di Amministrazione, che lo ha approvato un mese fa, ma è un piano soprattutto che è nato dalle proposte dei dipartimenti. La nostra Università di Trento oggi si struttura in una maniera piuttosto articolata, come vedete abbiamo dieci dipartimenti, tre centri di Ateneo, questi dieci dipartimenti e questi tre centri ci hanno fatto avere le loro proposte e le loro riflessioni e da quelle noi come Senato abbiamo preso le mosse per l'elaborazione del piano. Vedete altri due numeri che considero particolarmente significativi, 60 laboratori, 14 corsi di dottorato. Abbiamo 25 corsi di laurea triennale e di laurea ciclo unico e 29 corsi di laurea magistrale. Questi sono i numeri delle persone, vi citavo prima che l'importanza delle persone è di poter contare sul reclutamento di nuove risorse. Abbiamo 573 persone tra docenti e ricercatori, 668 persone che lavorano nella nostra amministrazione tecnica, negli uffici amministrativi e vorrei veramente sottolineare la straordinarietà del contributo di queste persone al lavoro e ai risultati che l'Università di Trento ha ottenuto in questi anni. Abbiamo 16.000 studenti iscritti e vi sottolineo che di questi 16.000 studenti più della metà provengono da fuori in regione, con punte addirittura di quasi l'ottanta per cento in alcuni dipartimenti e 560 studenti di dottorato. Il posizionamento dell'Ateneo non sta bene ricordare le cose che vanno bene, però io penso che la comunità che tanto investe su di noi ha forse anche piacere di sapere a che punto siamo e dove stiamo nelle classifiche e nei ranking. Questo è un dato, forse quello al quale noi diamo più importanza. Questo è il dato della valutazione della qualità della ricerca. È la prima volta che nel nostro paese è stata compiuta un'operazione di valutazione capillare della produzione scientifica degli Atenei e degli istituti di ricerca e Trento è risultata nettamente la prima tra gli Atenei di medie dimensioni come è il nostro. Il 72% dei prodotti della nostra ricerca, quindi di ciò che i ricercatori dell'Università di Trento hanno prodotto, è stato valutato eccellente o buono. È un risultato del quale siamo molto orgogliosi e che vogliamo condividere con la comunità. Questo è uno dei molti ranking internazionali, uno dei più prestigiosi, T.H.E. Trento risulta la prima fra i 15 Atenei italiani in classifica e l'unica nella fascia più alta nella quale compaiono università italiane, fra la posizione 201 e 225. Ecco, un altro dato che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è quello della occupabilità dei nostri studenti. I nostri laureati hanno più probabilità di trovare lavoro di tutti gli altri laureati italiani. Questo è un dato significativo di Alma Laurea. Alma Laurea è un consorzio che raccoglie un grande numero delle università italiane e che controlla, monitora i risultati dei laureati delle nostre università. Vedete che la nostra percentuale di occupazione è del 43% a fronte del 41% nazionale. Ho voluto sottolineare e mettere in evidenza questo dato perché in questi giorni sono apparsi anche sul giornale delle considerazioni in parte critiche su ciò che stiamo facendo. In particolare è stato ricordato il progetto Garanzia Giovani, quel nuovo progetto licenziato dall'Unione Europea. Ecco, noi ci stiamo lavorando. Nessun Ateneo è ancora partito con questa iniziativa. La provincia autonoma mi risulta è partita con un tavolo. questo progetto si appoggia sul Fondo Sociale Europeo. Ecco, noi siamo pronti a fare naturalmente la nostra parte. Anche in termini di guadagno vedete che risultiamo, abbiamo risultati migliori della media nazionale. Ecco, il piano strategico per il prossimo triennio è un documento che abbiamo articolato sulle tre missioni dell'università, la ricerca, la formazione e il trasferimento delle conoscenze. Sono missioni che così unite stanno solo nell'università. Noi abbiamo istituti di alta formazione, abbiamo istituti di alta ricerca, abbiamo istituti di trasferimento delle conoscenze, però solo nell'università queste missioni convivono e si fruttificano a vicenda, si contaminano a vicenda e proprio da questa contaminazione ciascuna guadagna, da questa contaminazione ciascuna si avvantaggia. Cosa prevede il piano per la ricerca? Nel campo della ricerca il nostro piano fa un passo avanti, credo significativo, rispetto al metodo precedente di distribuzione dei fondi della ricerca fra le strutture accademiche. Naturalmente noi distribuiamo una parte dei fondi secondo i criteri tradizionali, che tengono conto di una serie di variabili relativi ai dipartimenti, ma per la prima volta abbiamo immaginato dei bandi competitivi di Ateneo per grandi progetti di ricerca concentrati su aree che noi giudichiamo particolarmente interessanti per la nostra esperienza e per le nostre competenze nelle quali vogliamo premiare in particolare il carattere interdisciplinare della ricerca nella convinzione che questo è l'aspetto sul quale possiamo trarre ancora di più dalle competenze, dalle ricchezze, dalle capacità che il nostro Ateneo mette in campo. In questa logica poi una particolare attenzione è dedicata ai giovani perché uno degli elementi che sarà valutato in maniera molto importante nell'assegnazione di queste risorse sarà il coinvolgimento attivo dei giovani, la loro posizione di responsabilità dentro a questi progetti di ricerca. Sempre ai giovani poi è dedicato un altro strumento competitivo che abbiamo previsto, riservato esclusivamente ai giovani, al quale destiniamo anche una quota importante delle nostre risorse per la ricerca, che sono delle borse per la partecipazione a progetti competitivi. Quindi i giovani che partono possono contare, se presentano un bel progetto, se hanno una bella idea, possono contare su queste risorse che consentono loro di prepararsi per partecipare a bandi competitivi che normalmente richiedono molto lavoro, molto investimento, che non sempre sono alla portata del lavoro e l'investimento in quella dimensione dei giovani dei ricercatori. Ecco, è poi prevista nel piano una serie di interventi a supporto della ricerca. L'idea è quella di assistere e stare vicini ai nostri ricercatori nel momento in cui affrontano sfide per essi nuove che i tempi ormai richiedono, perché ormai la possibilità di attingere a risorse pubbliche, in particolare a risorse internazionali, a risorse europee, richiede competenze particolari che non sono nella tradizionale formazione dei ricercatori. Ecco, l'Ateneo mette a disposizione dei ricercatori questi strumenti di assistenza e di supporto. Poi naturalmente il piano dedica una parte importante alle infrastrutture, ma qui si aprirebbe un discorso lungo e purtroppo noi non possiamo restare qui fino a domani mattina, quindi vi posso solo accennare al fatto che le infrastrutture di cui abbiamo bisogno per ricercare e studiare sono i laboratori, sono le biblioteche, sono tutti questi elementi dei quali fortunatamente, anche grazie alla generosità della provincia disponiamo, ma che naturalmente richiedono di essere continuamente aggiornati. Ecco, nel campo della formazione il nostro atteggiamento è quello di considerare il nostro mercato, scusatemi la parola, ma l'ambito dal quale noi reclutiamo i nostri studenti, come il mercato europeo, l'ambito europeo, noi aspiriamo a porci come università che guarda anche da questo punto di vista all'Europa. Naturalmente per fare questo dobbiamo attrezzarci, in parte lo stiamo già facendo, l'abbiamo già fatto, corsi di laurea in inglese, orientamento anche su mercati diversi dal nostro, un'offerta formativa che sia in grado di essere attraente e interessante anche per chi proviene da esperienze formative non italiane. Naturalmente poi sono previste tante misure di arricchimento dell'esperienza formativa degli studenti, sempre più noi abbiamo la percezione che il mercato del lavoro richieda che i laureati siano attrezzati anche su versanti diversi da quello della stretta competenza scientifica del loro ambito disciplinare, quindi faccio solo l'esempio perché mi viene in mente, c'era una pagina intera oggi su solo 24 ore, nella occupabilità pare che risulta accertato che conti moltissimo avere fatto delle esperienze all'estero, che sia addirittura decisivo, sia la prima cosa che il datore di lavoro guarda nel momento in cui assume, quindi su questo il piano prevede appunto di continuare un cammino che abbiamo già intrapreso, ma che ci incalza, sul quale la realtà ci incalza e anche la concorrenza vorrei dire di altri atenei, anche italiani, che si stanno affacciando su questo scenario molto attivamente. Sarebbe bello parlare, ma non ve ne parlerò perché non c'è tempo, di innovazione didattica che è uno dei grandi temi ai quali ci siamo dedicati e sui quali contiamo di investire. Sulle nuove iniziative didattiche, permettetemi solo di ricordare, oltre alle lauree in inglese che contiamo di aumentare, l'iniziativa in materia di meccatronica che è stata ricordata anche prima dal sindaco di Rovereto, sulla quale direi che forse l'Ateneo investe più che su tutte le altre perché si tratta di arricchire un'esperienza che già c'è, continuando e offrendo un'offerta formativa nuova e molto intensa. Ecco, il tema del trasferimento delle conoscenze è un tema che si intreccia ovviamente con l'attività delle imprese anche a questo riguardo, nel piano abbiamo previsto una serie di azioni e naturalmente per ogni azione poi di indicatori in modo che quello che facciamo possa essere misurato e sarà misurato. Abbiamo anche qui l'ambizione di essere non soltanto un terminale di dialogo, di scambio e di produzione, di ricadute sulle imprese, ma anche un modello di apertura internazionale cioè noi vorremmo che la nostra attitudine all'apertura al mondo, che è tipica dell'università ma forse specialmente della nostra, possa essere qualche cosa della quale si avvantaggia anche la comunità anche i suoi operatori e in particolare i suoi operatori economici. Ecco, un'università aperta al mondo. Trento vuole essere una università che nel panorama italiano si caratterizza proprio per la sua dimensione internazionale. Già lo è, vuole continuare su questa strada quindi vuole rafforzare, intende rafforzare le sue alleanze internazionali sia nel campo della ricerca che in quello della formazione e per farlo naturalmente deve attirare dall'estero studenti e ovviamente ricercatori per fare questo occorre offrire condizioni sufficientemente attraenti, offrire un ambiente aperto agli stranieri e in questo certamente la disponibilità delle città e della comunità territoriale che abbiamo sentito è un elemento importante. Chi viene qui non deve sentirsi straniero a Trento ma deve sentirsi ben integrato in questa collettività. Naturalmente questo funziona anche alla rovescia cioè la presenza qui di tanti colleghi, dottorandi, studenti stranieri crea un ambiente multiculturale e internazionale dal quale sono sicura anche la comunità può trovare e trova già ora vantaggio e arricchimento. Ecco, un'università, l'abbiamo detto in tanti modi e vorrei sottolinearlo qui in particolare in questa occasione di confronto con la collettività locale, un'università aperta al mondo sì ma anche ben radicata nel nostro territorio. Vi ho parlato prima dei grandi progetti di ricerca per bandi competitivi all'interno dell'Ateneo, sono su tematiche sulle quali adesso non mi posso soffermare ma sono tutte tematiche che abbiamo individuato con il Senato, raccogliendo gli spunti dei dipartimenti anche avendo attenzione alla loro ricaduta sul territorio. Cioè sono tutte tematiche che presentano per il loro oggetto, per il metodo con le quali saranno condotte le ricerche che presentano appunto interesse anche per il territorio. Anche la nostra formazione vuole essere di risposta alle esigenze della nostra società. Ho ricordato prima le lauree in inglese ma ho ricordato anche l'iniziativa meccatronica che intende integrarsi con un progetto particolare a largo raggio promosso dalla provincia autonoma di Trento. Il nostro piano prevede una serie di azioni che sono dirette a rafforzare la collaborazione con le fondazioni di ricerca, con le fondazioni museali e con la scuola come vedremo meglio negli interventi che seguono. Insomma con tutti quei segmenti, quei pezzi della nostra realtà locale che possono dialogare con noi sul tema della ricerca e sul tema della formazione. Ecco vedete che l'ultima frase che ho scritto nella mia slide è anche l'euregio come territorio di riferimento. Io non credo che la dimensione dell'euregio possa propriamente essere considerata una dimensione internazionale. Io credo che la dimensione dell'euregio vada considerata come una dimensione eminentemente territoriale e locale, cioè l'euregio è il nostro territorio di riferimento. Vorrei che fosse il nostro territorio di riferimento dal quale puoi muovere per affrontare la dimensione globale. Ecco, io credo che dovremmo piano piano cominciare a muoverci pensando che la nostra comunità territoriale di riferimento è sì il Trentino, naturalmente, ma è destinata a diventare anche questa comunità transnazionale, transalpina, più ampia che costituisce forse anche per noi un bacino di riferimento territoriale più adeguato alle cose che siamo in grado di fare, naturalmente in dialogo costante e proficuo, come è già ora, con gli atenei di questo compendio regionale, quindi Bolzano e Innsbruck. Ecco, mi avvio a concludere. L'università è università di persone, l'ho detto prima, lo ridico, le persone sono i docenti, sono gli studenti, sono tutte le persone che dentro all'amministrazione dell'università lavorano, lavorano intensamente, lavorano duramente, lavorano a volte in condizioni non facili e penso in particolare al personale tecnico amministrativo che sconta purtroppo ancora un percentuale di turnover, che è quella generale della pubblica amministrazione nazionale, molto bassa e fortemente penalizzante, ma che nonostante questo sta veramente dando il meglio di sé con grande generosità per consentirci di lavorare al meglio. Ecco, il nostro piano prevede delle azioni dirette a attirare le persone di talento, offrendo un ambiente che premia e che motiva. Prevediamo, per esempio, un fondo di incentivazione, un fondo di premialità per riconoscere il merito e favorire chi si avvia. Abbiamo previsto una serie di azioni che recepiscono poi un altro documento che abbiamo recentemente approvato, il piano delle pari opportunità diretto a garantire al meglio questa esigenza. Anche qui permettetemi di fare una piccolissima digressione prima di finire. Il nostro Ateneo purtroppo sconta ancora, come molte altre realtà pubbliche e private, un forte squilibrio di genere, spesso ingiustificato. Ecco, il Senato sta mettendo a punto misure significative, nel piano viene fatta la dichiarazione generale, ma poi queste misure richiedono un'attuazione più precisa, proprio per superare questo gap sempre nel rispetto della qualità e del merito. Ecco, io con questo ho cercato di riassumere in poche parole, in poche slide, il senso del lavoro che abbiamo fatto e penso che su questo potremo darci appuntamento un altro anno e vedere che cosa abbiamo realizzato nel primo anno di esecuzione di questo piano triennale. Vi ringrazio. Per questa presentazione del piano strategico di cui poi parleremo nel breve momento di discussioni, ma ora vorrei dare la parola al Presidente Ugo Rossi. Grazie, buonasera anche da parte mia, un cordiale saluto alla rettrice, al Presidente, a tutti voi, naturalmente anche agli studenti che ci ascoltano, che sono probabilmente piazzati in altri luoghi. Io comincio con un grazie, se permettete, e lo faccio a nome del Trentino, a nome della comunità trentina. È il grazie che va alla nostra Università, al suo Presidente, alla rettrice, ma insomma a tutti i docenti, ai ricercatori, agli studenti, al personale amministrativo. Perché se è vero che, Assessora Ferrari, noi siamo un po' in difficoltà nel senso che non ci elencano più in certe graduatorie, che sono le graduatorie dei benefici, per la verità siamo ormai abituati ad essere elencati nelle graduatorie dei sacrifici, in quelle non manchiamo mai. Naturalmente sottolineo questo aspetto perché è un aspetto sul quale dobbiamo assolutamente lavorare assieme, d'altronde lo stiamo già facendo e dobbiamo evitare nel modo più assoluto che ci sia un alibi da parte dello Stato o da parte del Ministero nel considerare che, siccome c'è stato un cambiamento nell'assetto della nostra Università, questo poi si traduca in un minore trasferimento di risorse statali che pure sono dovute. Ecco, su questo non retrocederemo di un millimetro. Dicevo un grazie in modo particolare, però l'ha detto prima la rettrice, l'avrei detto io, perché ci sono altre graduatorie che sono lì assolutamente evidenti e oggettive a dimostrare come il lavoro che si fa qui dentro è un ottimo lavoro. È un ottimo lavoro anche per quanto riguarda la presa diretta con la nostra società trentina, rispetto alla quale, insomma, anche grazie alle nuove norme, credo abbiamo potuto avviare un percorso sempre più virtuoso, mi auguro e so che questo è impegno preciso della rettrice, del Presidente e di tutti voi. E poi il grazie perché qui voi contribuite a costruire quel capitale umano che è il primo fattore su cui dobbiamo contare per cercare di guardare con un po' più di fiducia al futuro. Qui esce un capitale umano certamente preparato, le classifiche lo dimostrano, certamente competente. Esce un capitale umano anche però consapevole, mi pare di poter dire. E l'aggancio che avete voluto con il mondo del volontariato, con il tema del volontariato, credo che migliori ulteriormente questo aspetto. Noi abbiamo bisogno di persone che abbiano gli strumenti fondamentali nelle loro mani per affrontare il futuro, ma che sappiano anche interpretare e leggere la realtà per quello che è, con le sue contraddizioni, la realtà locale, ma la realtà locale che sa guardare anche a livello globale. E il tema del volontariato è un aspetto identitario del nostro territorio e del suo popolo che assolutamente è di per se stesso un fattore di competitività, perché rende le persone più consapevoli da una parte e più aperte e più abituate a mettersi in relazione con gli altri, che è uno degli elementi, degli assi strategici del vostro piano. C'è poi il tema della scuola, che come sapete mi è particolarmente caro. Avete con questa scelta anche un po' anticipato, se volete, le scelte che poi abbiamo fatto a livello organizzativo come provincia, costituendo il Dipartimento della Conoscenza, dove dentro ci sono scuola e università. Cosa significa questo? Significa che abbiamo delle sfide da affrontare assieme, alcune sono state ricordate, la sfida è soprattutto quella di fare in modo che scuola e università si occupino dei ragazzi anche in relazione a ciò che dovranno fare dopo. E quindi la scuola deve occuparsi dei ragazzi in relazione a ciò che potranno fare l'università e viceversa, ma entrambe devono occuparsi dei ragazzi in relazione a ciò che devono poter mettere in campo per affrontare il mondo del lavoro. La transizione tra formazione e lavoro deve essere, credo, uno dei punti principali del nostro agire e la dobbiamo assolutamente affrontare in un'ottica unitaria tra scuola e università. Se pensiamo solamente alle possibili sfide in questo senso che si aprono e che vorremmo magari anche cercare di aprire nella nostra provincia, anticipando magari anche qualche riforma nazionale, rispetto al fatto che la scuola dell'obbligo in Europa ha un anno in meno, ecco io credo che questa può essere una sfida e anche un'opportunità per scuola e università trentina per essere anticipatrici di un modello anche nuovo e più virtuoso. C'è poi un altro aspetto che lega intimamente le azioni sia di scuola che di università. La questione della formazione degli insegnanti nella strategia di sviluppo della carriera del corpo docente. Noi abbiamo la necessità anche nella scuola come nell'università di valorizzare il merito e allora abbiamo bisogno di un'università che in termini formativi ma anche in termini valutativi ci dia gli strumenti per saper valorizzare il merito degli insegnanti nella nostra scuola. Il tema del merito e della competitività è molto presente nel vostro piano strategico e a me fa particolarmente piacere che sia così. Io concludo dicendo che è su questa frontiera del merito che dovremmo saperci misurare ed è un tema questo che riguarda anche ciò che l'università deve restituire al territorio. Credo che la scelta del piano strategico vada esattamente in questa direzione. Io sono qui per dirvi oggi che naturalmente come provincia di Trento non intendiamo smobilitare rispetto al tradizionale impegno a fianco della nostra università ma sono anche altrettanto a dirvi in maniera franca e sincera che abbiamo bisogno di strumenti come il piano strategico che ci consentano tutti assieme di valutare e di misurare il nostro operato per rendere conto ai cittadini ma possibilmente per migliorare. Abbiamo margini di miglioramento e i margini di miglioramento stanno nella capacità che avremo di mettere in atto quelle azioni che la rettrice prima ha descritto. È in questi termini che la provincia di Trento sarà al vostro fianco per affrontare le sfide del futuro. Buon lavoro e buon anno. Grazie Presidente, grazie dell'augurio e sicuramente ne abbiamo bisogno tutti quanti. Vi è stato presentato un schema di assemblea nuovo e un piano strategico che poi si declina in azioni obiettivi quindi abbastanza complesso e articolato e quindi su questo chiedo se ci sono delle domande, delle voglie di intervento da parte del pubblico qui presente così interrompiamo un momento la sequenza dei saluti e delle presentazioni per vedere se ci sono sollecitazioni che possono venire dal pubblico stesso. Non ci sono. Avete avuto tutte le spiegazioni che erano state possibili e immaginabili. No, mi rendo conto che non è facile intervenire a metà, però preparatevi perché ci saranno altri momenti in cui mi fermerò con aria imbarazzata a chiedere se ci sono interventi da parte del pubblico e quindi qualche duro magari che mi dà una mano penso di trovarlo. Allora proseguiamo con i nostri lavori. In questo momento noi abbiamo pensato di darvi in maniera visiva attraverso due brevi filmati che abbiamo preparato nel quale abbiamo cercato di dire quello che la ricerca che sta facendo l'università in questo momento avrà e ha come impatto sulla vita nostra, sulla vita futura nostra perché come dicevo la ricerca che si svolge all'università è spesso una ricerca di base ma che è la base per quelle che sono le nuove tecnologie che saranno presenti. Vi devo anche dire che sui tavoli avete un segnalibro che si chiama un Q-Code, il Q-Code sarebbe questo affaretto che sta qui sotto con il quale attraverso i telefonini uno può rivedere quello che stiamo vedendo adesso se uno non l'ha visto bene ma potrà anche seguire i lavori perché su questo Q-Code poi sarà possibile seguire tutte le attività che questa assemblea ha portato avanti. Saremmo presenti anche sui media civici i quali ci consentiranno di interagire con la comunità trentina attraverso questi sistemi elettronici che sono croce e delizia del nostro vivere e del nostro essere. Bene, diamo il via al primo video. Guido e penso che oggi la ricerca è quasi ovunque, nei luoghi che frequentiamo, nei gesti che facciamo, negli oggetti che maneggiamo. La ricerca cambia la nostra vita. Spesso non ci pensiamo, ma c'è ricerca anche nel cibo che mangiamo, nei contenitori per venderlo, nelle etichette che ne tracciano la provenienza, nei modi in cui lo paghiamo. Ieri si chiamavano invenzioni e non innovazioni. Spesso nascevano da uomini ossessionati da un'idea. Forse chi la praticava aveva la patente di mago e non il dottorato. Forse. Ma certamente quelle persone e il loro lavoro sono il filo rosso che ci ha portato e ci porta verso il futuro. Tutti voi conoscete l'indidride carbonica, che è un gas fondamentale per la vita e per la fotosintesi, utilizzato nelle industrie alimentari per rendere frizzanti bibite o acqua minerale. In condizioni supercritiche, la CO2 presenta delle caratteristiche chimico-fisiche intermedie tra quelle di un liquido e quelle di un gas, diventa un fluido e queste caratteristiche lo rendono particolarmente interessante per svariate applicazioni nel mondo della ricerca industriale. Nel XXI secolo anche il gesto più semplice, consumare un prodotto fresco come se fosse appena colto, richiede studio, lavoro e investimenti. Attualmente mi occupo della pastorizzazione di prodotti alimentari sia liquidi che solidi attraverso l'uso della CO2 supercritica. Questo è un processo non termico, in quanto non viene utilizzato il calore per pastorizzare le sostanze. Recentemente abbiamo dimostrato che, ad esempio, l'acqua di cocco, che è una bevanda per sportivi utilizzata in tutto il mondo per l'alto contenuto in vitamine, in sali e povera invece in zuccheri, può essere pastorizzata con la CO2 garantendo un prodotto con alto contenuto vitaminico-organolettico come il prodotto fresco. Questo progetto potrà avere ricadute dirette nel mondo industriale alimentare e anche i premi vinti dal mio gruppo di ricerca, come il premio Montano-Ferrarini, testimoniano l'interesse scientifico per queste tematiche di ricerca. La ricerca si mangia, si cucina, si serve a tavola. Ma se nella quotidianità molti gesti ci riportano a pratiche conosciute e antiche, oggi la vita si svolge anche in un luogo immateriale. Internet è una realtà governata dai numeri dove compiamo azioni reali, azioni che certi algoritmi proteggono e certi altri minacciano. La crittografia è l'arte di mascherare i messaggi in modo che non siano visibili a chi non li deve vedere. Già Giulio Cesare utilizzava questa tecnologia quando doveva mandare un messaggio a tac o difendi ai propri generali. Oggigiorno, quando dobbiamo parlare con i nostri telefoni tramite un'orecola Bluetooth oppure dobbiamo comunicare su internet, accedere al conto online o a un sito, i messaggi importanti da proteggere si sono moltiplicati e dismisura. E usiamo la crittografia per ognuno di questi messaggi. Nella navigazione su internet ci sono algoritmi criptografici standard che proteggono i dati degli utenti e le informazioni scambiate, come per esempio i dati da carta di credito, i dati del conto online, cose di questo tipo. Purtroppo i standard usati su internet sono soggetti a numerose debolezze e attacchi. Per questo motivo, ma anche altre grandi realtà, si rivolgono a noi per creare algoritmi ad hoc che permettono una doppia cifrattura, come un doppio lucchetto, per proteggere dati veramente importanti. Oltre a queste applicazioni finanziarie ci occupiamo della protezione di dati ultrasensibili, come ad esempio i dati sanitari, i dati biometrici. Abbiamo fatto anche un progetto con la provincia proprio per la protezione dei dati sanitari pubblici. La ricerca è un modo di guardare la realtà e i satelliti possono essere utilizzati come occhi per osservare la Terra da una diversa prospettiva. I dati raccolti dallo spazio e poi studiati sulla Terra servono a monitorarne la vita. Da sempre l'uomo ha visto lo spazio dalla Terra. Da circa 50 anni riesce a vedere la Terra dallo spazio e lo spazio dallo spazio. Questo apre delle opportunità scientifiche incredibili. Il progetto di ricerca di cui mi sto occupando da parecchi anni con la Cina, finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana e dagli NFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riguarda lo sviluppo di uno strumento da mettere in orbita fra due anni dedicato al monitoraggio sismico dallo spazio, un nuovo metodo mai realizzato a precedenza. Ci sono indicazioni che le particelle intrappolate nelle fasce di Van Allen, il campo magnetico intorno alla Terra, nelle vicinanze di un terremoto precipitano verso la Terra come una pioggia che il satellite può intercettare, misurare e può essere utilizzato per il monitoraggio sismico. Se questo metodo manterrà le promesse, sembra molto interessante, avremo la possibilità di avere nuovi strumenti per monitorare globalmente il fenomeno sismico su tutta la Terra. Ciò che dallo spazio non si può invece vedere è la nostra storia, secoli di eventi che hanno tracciato i confini delle nazioni e modificato il paesaggio in cui viviamo. I fiumi sono uno degli elementi più dinamici del nostro paesaggio. Questa dinamicità adesso è cambiata perché l'uomo l'ha dovuta controllare per le proprie esigenze. Per gestire al meglio i fiumi però è fondamentale ricostruire la storia dell'interazione fra l'uomo e il corso d'acqua. Percorro la vecchia ansa del fiume per andare a scoprire un progetto dove scienze dure e materie umanistiche si sono unite per ricostruire la storia dell'Adige e del suo ambiente e affrontare così le sfide della sostenibilità. Il progetto H-2000 ha l'ambizione di ricostruire la storia morfologica dell'Adige negli ultimi 2000 anni. Come lo vediamo oggi l'Adige può quasi apparire un elemento statico e non più dinamico perché da metà ottocento dopo quegli eccezionali interventi di ingegneria idraulica per l'epoca che gli hanno dato il corso attuale ha sostanzialmente una forma immutata mentre prima sviluppava Anse, era molto più largo e quindi era quell'elemento dinamico del paesaggio come naturalmente sono i fiumi. Il progetto è particolarmente innovativo sul piano europeo perché se sono state già fatte ricostruzioni dell'evoluzione morfologica di grandi fiumi come il Reno questo è uno dei primi in cui le scienze fisiche, geologiche e umanistiche collaborano insieme per questo ambizioso obiettivo. Per ricostruire la forma naturale storica del fiume è necessario interrogare le fonti come ad esempio le antiche mappe, le cronache dell'epoca, i carottaggi archeologici. Tutto l'insieme di questi dati di competenza umanistica costituirà la base sulla quale si applicheranno le discipline più spiccatamente scientifiche al fine di elaborare modelli matematici di tipo predittivo quindi per la previsione degli assetti del futuro. Tutto questo non per un puro esercizio erudito ma per dovere di completezza, per offrire un quadro innovativo, dinamico finalizzato alla gestione sostenibile del territorio. Adesso chiedo agli studenti, al Presidente del Consiglio degli Studenti, Rocco Di Filippo membro del nostro Consiglio di Amministrazione, di fare il suo intervento. Buonasera a tutti, innanzitutto volevo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per realizzare questa seconda assemblea d'Ateneo e nel mio breve intervento volevo ripercorrere il metodo in cui gli studenti e la componente studentesca nell'università ha collaborato alla preparazione del piano strategico di Ateneo. Infatti all'interno del piano è evidente che una grossa fetta delle azioni che sono state prese riguardano il settore della formazione di cui prima ci parlava la rettrice. La genesi di questa nostra azione sta nell'aver preso coscienza che il quadro attuale in cui si ritrovano i giovani e i giovani laureati è un quadro che offre una situazione che è diventata più difficile negli ultimi anni, una situazione di bassa occupabilità e di stipendi che vanno abbassandosi. Qui in Trentino facciamo meglio degli altri, ma quello che facciamo non ci bastava. Per questa ragione gli studenti sono stati chiamati a collaborare, a decidere di come spostare parte dei fondi che provenivano dalla contribuzione studentesca, quindi le tasse universitarie, verso diverse altre iniziative. Per questa ragione ci siamo mossi all'interno di due filoni particolari, cioè l'internazionalizzazione e l'acquisizione di soft skill. Per l'internazionalizzazione sostanzialmente abbiamo deciso di devolvere più fondi verso le borse di mobilità per gli studenti e più fondi per la formazione linguistica in genere. Per le soft skill sostanzialmente abbiamo deciso di fornire ai nostri studenti delle abilità che non fossero quelle convenzionali, dei corsi di studi convenzionali, ma fossero abilità come il rapporto umano, il rapporto con i colleghi, il rapporto con le istituzioni, la capacità di comunicare. Quindi una serie di abilità che è sempre più richiesta all'interno del mondo del lavoro. E messi assieme questi due filoni creano non solo dei professionisti migliori, più ricercati dal mondo del lavoro, più pronti a competere su tutto il territorio europeo, ma creano anche dei cittadini migliori, quindi dei cittadini che saranno chiamati a vivere e contribuire al benessere di questo territorio. Concludo il mio intervento dicendo che sostanzialmente noi abbiamo affrontato la crisi prendendola di petto, cioè investendo in uno dei pochi settori che offre sempre un ritorno molto alto, cioè l'investimento sul capitale umano, come diceva prima il Presidente della Regione. Noi abbiamo quindi investito sul nostro capitale umano, che sono i nostri studenti, e abbiamo deciso di dargli qualcosa in più, quindi di utilizzare queste risorse per renderli più competitivi sul mercato professionale nel tentativo di creare anche dei cittadini migliori. Grazie a tutti. Grazie a Rocco Di Filippo anche per il sostegno che ci dà in Consiglio di Amministrazione e per una visione non conservativa delle cose. Adesso chiedo alla rappresentante degli studenti in Senato, Elisa Montanari, di fare il suo intervento. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono rappresentante in Senato accademico e studio Economia e mi interessava entrare anche un po' in merito dei temi dell'Assemblea di quest'anno, soprattutto focalizzandomi un attimo su aspetti che per me sono da valorizzare. Innanzitutto riflettendo sul passaggio dalla scuola all'università e vedendo come questo è un momento delicato nella vita di un ragazzo, lavorando anche con gli altri rappresentanti e gli altri studenti proprio su questo tema ci siamo chiesti che cosa abbiamo più a cuore, che cosa ci interessa portare e fare. Innanzitutto io vedo che un primo aspetto è sicuramente quello di valorizzare la persona e soprattutto poter comunicare che l'università non è solamente un luogo dove immagazziniamo conoscenze oppure io che studio Economia, modelli economici piuttosto che matematici, ma un luogo di costruzione umana. In questo ci sono stati per esempio alcuni gruppi di studenti a inizio dell'anno che hanno allestito dei banchetti per le matricole proprio come prima mossa proprio per accompagnarli in questo passaggio. E per me questo è un punto importante perché rivela che l'università non è solo, pensando anche un attimo a un po' l'indifferenza spesso generale, non è solo un luogo dove andare a fare esami e sostenere lezioni, ma un luogo di amicizia, di cammino umano e soprattutto una comunità per cui vale la pena spendersi. E per me questo è un aspetto da valorizzare. E inoltre, brevissimamente, legandomi al tema del volontariato, per cui appunto sempre trovandomi a lavorare con i miei colleghi mi sono state poste tante domande, tra cui inizialmente un po' che cosa c'entra il volontariato con il fatto che sto studiando qua all'università. È una stella da mettere nel curriculum e basta? Piuttosto che poi gli studenti sono sempre un po' a corto di soldi, chi me lo fa fare di lavorare gratis, no? Per cui è stato molto interessante perché proprio nel dialogo io posso rispondere a queste domande a partire dalla mia esperienza di rappresentanza anche in Senato, per cui legandomi appunto al tema del volontariato che all'inizio magari uno si muove perché ha esigenza di mettersi al servizio, di collaborare, a costruire qualcosa ma poi scoprendosi in azione uno si scopre arricchito e per cui per me questo è un punto molto importante perché rivela il valore vero del volontariato che magari non è la prima cosa che ti fa muovere ma sicuramente è ciò che ti fa continuare a muovere quando ti scontri con il limite tuo piuttosto che con il limite dell'altro quando sembra che la tua azione non abbia subito risultati concreti per cui appunto da una parte nel passaggio della scuola poter valorizzare la persona e rispondere a un bisogno di uno che effettivamente deve decidere per la sua vita e dall'altra nel volontariato scoprirne il valore più vero per cui grazie dell'attenzione grazie Elisa Montanari perché ha toccato i due temi che sono proprio oggetto di questa assemblea oggi e che affronteremo dopo aver sentito un altro tema di Paolo Bouchet e sulle attività sportive che abbiamo condotto alle università e sull'esperienza che abbiamo avuto Paolo Buonasera a tutti volevo usare questi pochi minuti per condividere con voi alcune riflessioni che sono ispirate dai temi di questa conferenza quindi il tema dei rapporti col territorio il tema della scuola il tema del volontariato e declinarli in una luce che forse non è la prima che viene in mente non è la più tradizionale quando si parla di università ed è proprio il tema dello sport e vorrei farlo usando come è stato appunto accennato un'esperienza molto importante a cui l'università ha preso parte nell'anno scorso 2013 ovvero sia l'organizzazione dell'università di Invernali Trentino 2013 in collaborazione con la provincia di Trento, il comune di Trento e il centro sportivo universitario dicevo appunto scuola, volontariato e rapporti col territorio e la tesi che vorrei sostenere in questo brevissimo intervento è appunto che attraverso lo sport si possono creare delle sinergie di altissima qualità tra l'università di Trento e il territorio inteso sia come società ma anche come amministrazione del territorio che l'Ateneo in questo modo può contribuire a creare valore per il territorio in cui vive in aree fondamentali dell'economia provinciale e infine che in questo le scuole e il volontariato hanno un ruolo chiave qui vi darò solo due numeri veramente molto semplici dell'universiade i primi numeri riguardano appunto il tema della scuola durante l'universiade ben 2000 studenti delle scuole primarie e secondarie del Trentino hanno partecipato a progetti legati all'universiade una bellissima esperienza le scuole alberghiere del Trentino hanno curato le cene di gala che tutta la comunità internazionale sportiva ha apprezzato sapendo che erano prodotti di una scuola del nostro territorio del Trentino le medaglie che gli atleti portano al collo, gli atleti che hanno vinto le universiade sono state progettate dall'istituto d'arte di Vigo di Fassa e quindi hanno fatto il giro del mondo una scuola musicale del Trentino, il Diapason ci ha aiutato a selezionare la canzone ufficiale delle universiade che anche ha fatto il giro del mondo e con il progetto Student Staff in collaborazione con la provincia ben 200 volontari delle scuole hanno lavorato come volontari guidati dai loro insegnanti in tutti i settori dell'organizzazione e qui entriamo nel secondo tema importante, il volontariato io non so se c'è mai stata prima se ci sarà ancora un'esperienza simile di volontariato che ha coinvolto l'università direttamente perché ben 2800 studenti di questa università si sono candidati a fare i volontari all'universiade di questi solo 800 poi sono stati selezionati per motivi organizzativi e hanno fatto parte di quei 2000 Passa volontari che hanno reso indimenticabile questo evento che tutto il mondo ha detto essere stato eccezionale per le modalità e i tempi ma anche appunto per la professionalità dei nostri volontari che sono stati un po' l'anima dell'evento e fra l'altro parlando di università ci sono anche delle tesi in corso su questo tema e quindi in qualche modo un tema che verrà studiato anche in futuro mi avvia verso la fine per ricordare che l'Ateneo è stato presente in ogni aspetto di questo evento a cominciare dalla torcia quella torcia che è stata accesa dal Papa a Roma all'inizio del giro della torcia che poi ha fatto il giro di tutta l'università italiana è stata progettata da un nostro collega della facoltà di ingegneria dell'università di Trento così come il bracere che per settimane è stato in cima alla torre civica e che è stato un po' il simbolo di questa universiade o la cerimonia di apertura progettata in collaborazione con lo UUAV di Venezia quindi un'altra collaborazione universitaria e anche i progetti scientifici che sono stati svolti in occasione dell'universiade e uno l'avete visto nel video poco fa quando si è parlato di acqua di cocco la professoressa Spilimbergo è uno dei progetti che sono stati sviluppati proprio in occasione dell'universiade ed è stata fatta anche una conferenza su sport come veicolo di innovazione quindi trasferimento della conoscenza altro tema citato prima dalla rettrice a Roveretto che ha coinvolto molte aziende locali molti ricercatori internazionali che hanno in qualche modo ci hanno aiutato a riflettere sul fatto che lo sport non è solo attività fisica ma è anche un'enorme opportunità per affrontare problemi di ricerca e per trasferire conoscenza al mercato finisco con una citazione da un personaggio che forse non vi aspettate rispetto allo sport che è Nelson Mandela il quale un giorno in un discorso molto importante ha detto lo sport ha il potere di cambiare il mondo e ha il potere di ispirare ecco questo vorrei che ce lo ricordassimo quando ogni tanto all'interno degli ambienti anche universitari diciamo vabbè dai in fondo è solo sport ecco non è solo sport in fondo è sport e lo sport è quello che ci può aiutare tutti a fare formazione migliore ricerca migliore e a ispirare gli studenti in società verso i risultati di eccellenza grazie mille grazie a Paolo Buche poi continueremo con lo sport perché avremo incontri con lo sport intanto vediamo questa seconda parte del video che conclude l'insieme del video che avevamo preparato per mostrare le attività dell'università prego oggi la ricerca non si limita ad osservare la natura solo per capirla l'intento spesso è quello di imitarla da sempre l'uomo osserva la natura incuriosito già Aristotele per esempio osservava i gechi ultimamente stiamo cercando di fare un passo ulteriore cioè quello di carpire i segreti per esempio dei gechi o delle ragnatele anche per progettare dei materiali innovativi ispirati appunto alla natura con capacità che attualmente non si vedono nei materiali artificiali nel nostro dipartimento di ingegneria civile ambientale e meccanica abbiamo preso un certo numero di grant di finanziamenti da parte dell'European Research Council l'ultimo dei quali sui nodi stiamo cercando in sostanza di osservando come sono fatte le giunzioni della sete del ragno di mimandole ottenere delle fibre che abbiano la capacità di dissipare energia molto maggiore di quello che oggi si osserva sul mercato siamo riusciti quindi inserendo dei nodi sulle fibre a realizzare materiali con tenacità che è dieci volte la tenacità del Kevlar che è il materiale sostanzialmente artificiale che è la tenacità maggiore che noi abbiamo oggi le applicazioni possono essere molteplici pensate per esempio a delle reti di contenimento per protezione e per la sicurezza degli sciatori se queste reti prevedessero la presenza dei nodi scorrevoli un pochettino sulla base del nostro concetto si potrebbe avere delle reti molto più sottili con capacità protettive maggiori di quelle attuali il diritto è un altro punto di vista un altro occhio che osserva la realtà quando il suo sguardo si posa sulle possibilità che la scienza apre alla vita allora il suo lavoro di ricerca finisce per intrecciarsi con la tecnica più aggiornata e con la filosofia la scienza, le nuove tecnologie stanno cambiando il nostro mondo ci sono molte potenzialità ma ci sono anche nuovi inediti interrogativi è proprio a questi interrogativi che noi del progetto Biodiritto ci rivolgiamo per cercare di orientare le biotecnologie verso valori, verso principi rispettosi dell'ambiente in cui viviamo e che promuovano al massimo livello possibile i diritti fondamentali delle persone come il diritto alla salute e al diritto all'autodeterminazione e su questo ci sono alcuni principi già nel nostro ordinamento per il resto c'è molto ancora da inventare la procreazione medicalmente assistita è uno di quegli ambiti cui vediamo in maniera molto tangibile molto concreta come la scienza possa incidere apprendo nuove possibilità per le persone ci sono oggi famiglie che nell'anno di approvazione del nostro codice civile 1942 semplicemente non erano pensabili il progetto Biodiritto nasce dalla consapevolezza che di fronte a queste nuove problematiche è necessario mettere in connessione in comunicazione tra di loro diversi saperi, diverse conoscenze quindi ci siamo trovati spesso ad affrontare questioni come ad esempio la clonazione rispetto alle quali per i giuristi nasceva innanzitutto un'esigenza di comprensione e per questo ci rivolgevamo ai biologi poi è importante anche la parte bioetica e sicuramente l'apporto degli scienziati e dei medici quindi a questa consapevolezza della necessità di creare un lessico comune abbiamo affiancato la necessità di conoscere anche altri ordinamenti perché spesso quello che le persone non possono fare in Italia si recano all'estero a farlo e su queste basi sulla ricerca e la costruzione di un lessico comune pensiamo di dare ottimi strumenti di comprensione utili poi anche al legislatore e dai giudici Ascolto e osservazione la ricerca parte spesso da qui il mio ultimo appuntamento è con chi studia il cervello per capire come intervenire quando questi sensi fondamentali vengono a mancare Cosa accade nel cervello di una persona sorda? Una persona sorda è una persona che ha un cervello uguale al mio e al vostro ma che non riceve alcuna informazione acustica dell'ambiente Le neuroscienze cognitive hanno cambiato il modo in cui guardiamo al cervello e al comportamento delle persone sorde e ci hanno insegnato che il cervello si riorganizza in maniera abbastanza importante sostanziale Queste erano forti implicazioni teoriche era qualcosa da cui imparare per i modelli della mente adesso sono degli aspetti con dei risvolti applicativi particolarmente importanti Dall'inizio degli anni 90 sono disponibili in tutto il mondo delle protesi, delle neuroprotesi che possono restituire almeno in parte l'udito alle persone sorde il problema è che una neuroprotesi non è una radio che io accendo e immediatamente mi dà un messaggio una neuroprotesi è qualcosa che la persona deve imparare a usare soprattutto immaginatevi il contesto di una persona che non ha ascoltato per i primi 10 anni di vita o i primi 4 anni di vita e poi dover imparare a usare questa neuroprotesi Quello che possiamo cercare di fare adesso e che noi ci stiamo cercando di fare così come molti gruppi nel mondo è cercare di capire da un lato in quali condizioni la neuroprotesi potrà funzionare meglio e dall'altro cercare di trovare delle strategie riabilitative guidate da ciò che sappiamo del funzionamento della mente e del cervello che rendano questa esperienza di neuroprotesi il più positivo, il più efficace possibile per il paziente e per tutte le persone con cui il paziente interagisce una città, un ateneo è la ricerca che si traduce in vita quotidiana si impara dai ragni i matematici garantiscono una navigazione più sicura e dallo spazio capiamo cos'è successo qua giù in Trentino il filo rosso dell'innovazione viene tessuto in tanti laboratori accelero e li vado a cercarli spero che questi video vi abbiano dato un'impressione di quello che sta facendo l'università e delle ricadute che le nostre ricerche hanno sulla nostra vita, la vita dei nostri figli e la vita futura adesso vogliamo passare appunto a presentarvi quelli che sono stati un po' i risultati di questi incontri che abbiamo avuto nel mese di maggio con scuola e volontariato che hanno rappresentato i primi temi di ascolto diretto di quella che sono le comunità qui del Trentino e quindi inizierei proprio con la scuola e mi fa piacere di dare la parola a Livia Ferrario dirigente del Dipartimento della Conoscenza della provincia autonoma di Trento grazie grazie, buonasera a tutti e grazie per questo invito io farò una brevissima riflessione e domanda al mio collega Os, che non vedo ma so che c'è in sale eccolo là noi in questi mesi abbiamo lavorato molto abbiamo avuto anche questa possibilità di avere questi pre-incontri con l'università devo dire che sono stati molto stimolanti e molto ricchi di sollecitazioni con l'università la scuola lavora quotidianamente lavora sull'abilitazione dei suoi insegnanti sulla formazione sulla ricerca sulla contaminazione dei diversi ambienti c'è un aspetto che io vorrei sottolineare dove noi abbiamo bisogno di fare un grandissimo investimento e di continuare questo grandissimo investimento che è l'attività di orientamento come ha detto bene il Presidente noi stiamo investendo moltissimo sulla qualità e sulle competenze del nostro capitale umano e quindi dei nostri ragazzi il piano trilingue la filiera scuola-lavoro la strumentazione che stiamo cercando di mettere in campo va tutta in questa direzione però noi abbiamo bisogno di uno strumento e come dire di una coordinata fondamentale che è appunto quella dell'orientamento orientamento che non deve essere letta come spesso accade come un fattore di promozione di questa scuola o di quella facoltà ma come un'attività che accompagna i nostri ragazzi dai primi anni del loro percorso educativo e formativo aiuta le famiglie a comprendere la ricchezza dell'offerta formativa ma soprattutto aiuta a individuare i talenti e le competenze che ogni ragazzo ha e bisogna cercare insomma di metterlo sul sentiero migliore per poi raggiungere i suoi risultati ecco su questo io chiederei al Professor Ross una riflessione grazie grazie sentiamo allora adesso Stefano Ross che è il delegato dell'orientamento per l'Università di Trento eccomi buonasera a tutti e mi unisco anche io ai ringraziamenti per l'iniziativa alla quale applaudo soprattutto perché sono stati selezionati questi due temi che ritengo veramente di strategica importanza e collegandomi appunto a quanto è appena stato detto e in altri momenti questo pomeriggio vi si è accennato il capitale umano al quale si fa ovviamente riferimento per parlare di un'università al top delle classifiche che produce ricerca di prima linea e benessere per la società non si può dimenticare qual è l'origine di questo capitale umano cioè i nostri studenti provengono da una scuola e da una formazione primaria e secondaria a un percorso molto lungo che deve avvicinare appunto i nostri ragazzi i nostri studentesi i nostri studenti a una scelta mirata consapevole di un percorso superiore di studi a me preme sempre molto far osservare che anche un po' in un certo senso a prescindere da quella che sarà l'attitudine e la scelta del corso di studi universitario dei nostri studenti loro devono essere anzitutto cittadini del mondo devono essere messi in grado di comprendere una società che è in enorme e rapido cambiamento e gli strumenti di cui hanno bisogno sono piuttosto sofisticati chiedono un grande sforzo non solo di tipo orientativo da parte nostra cioè nel senso che informiamo gli studenti con molti mezzi che l'università mette a disposizione di quali sono le nostre offerte i corsi laurea che vengono messi a disposizione i percorsi fino al dottorato post dottorato e via dicendo cose molto importanti sicuramente ma dobbiamo io vorrei dire non soprattutto ma anche mettere in grado lo studente di scoprire come è fatto questo mondo per farlo c'è bisogno di un'enorme collaborazione col mondo della formazione scolastica bisogna considerare degli investimenti una ricerca congiunta come diceva giustamente la dottoressa Ferrario pochi istanti fa con gli insegnanti i docenti universitari non credo che siano chiamati a fare didattica nella scuola sono chiamati ad un lavoro collettivo a una collaborazione con i docenti della scuola per mettere in grado di rispondere alle nuove sollecitazioni culturali che dà questa società spesso molti colleghi mi guardano con una sorta di curiosità ma come mai dedichi così tanta energia e tempo di quello che già poco ci rimane pensando a collaborazione con la scuola la scuola ha già le sue risorse le sue strutture i suoi docenti è abbastanza ripeto curioso che uno debba investire anche su questo io credo che con me so che molti colleghi in ogni caso condividono questo pensiero si tratti di un vero proprio filone di ricerca scientifica didattica pedagogica che non dà nulla per scontato che ha bisogno di investimenti che apre nuove vie per fare nuova didattica che vuol dire nuovi modi di scoprire ripeto non vorrei essere insistente ma credo che sia veramente un punto strategico questo non solo come studiare non solo come scegliere un percorso di laurea ma come essere cittadini del mondo per questo credo che qualsiasi azione strategica congiunta fra un'estate la scuola sia benvenuta non dobbiamo costruire tutto da capo ci sono moltissime esperienze ci sono molte iniziative in atto da sbariati anni la provincia di Trento ha sempre tenuto le porte aperte all'università da questo punto di vista e noi ci siamo sempre ben volentieri dedicati a questo non dobbiamo ripeto costruire tutto da capo dobbiamo però avere molta energia per aggiungere nuovo materiale perché ripeto le cose stanno cambiando molto rapidamente e dobbiamo tenere il passo con questi tempi molto impegnativi grazie sentiamo ora la dirigente del istituto tecnico Guglielmo Marconi Laura Zoller grazie per questo momento di confronto che è stato preceduto da un altro momento altrettanto fattivo e davvero costruttivo mi sento di sottoscrivere quanto appena affermato anche dal professor Ross e sollecitato dalla dirigente Ferrario e la scuola ha davvero bisogno di questa contaminazione di cui parlava prima anche la rettrice in maniera sistemica in maniera direi proprio stretta e direi veramente molto importante e significativa io volevo porre tra le tante sfide che già il piano triennale prevede un altro momento di riflessione quello che riguarda la cosiddetta alta formazione professionale ossia il percorso post diploma che gli istituti nello specifico è il mio che è quello che dirigo in questo momento e l'istituto Marconi propone ormai alla quarta edizione che è il corso in tecnico superiore in automazione mecatronica si tratta di percorsi appunto di alta formazione tecnica superiore da anni da un paio d'anni equiparati agli istituti tecnici superiori a livello nazionale e che consentono appunto ai nostri studenti di raggiungere delle competenze specifiche che sono definite in accordo con il mondo produttivo e quindi con il mondo aziendale a questo proposito anche proprio sulla scorta di quelle che sono le richieste di molti studenti alcuni dei nostri studenti alla fine del bienio post diploma si iscrivono all'università alcuni ragazzi che raggiungono il diploma universitario del primo del primo livello decidono poi di iscriversi al corso di appunto formazione post diploma ecco da parte mia la richiesta all'università di aprire una riflessione di riconoscimento di credito di maggiore flessibilità di osmosi anche nel riconoscimento di certificazione e quindi di competenze così come peraltro la legge 10 dello scorso anno provinciale prevede quindi l'opportunità di validare adeguatamente le competenze acquisite quelle competenze di cui anche poc'anzi il presidente faceva cenno che sono quelle che consentono anche di inserirsi in maniera proficua nel mondo del lavoro quindi con alte specifiche tecniche e che hanno proprio anche per la speciale organizzazione di questi percorsi che prevedono momenti specifici d'aula accompagnati a momenti di praticantato in azienda ripeto come prevedere che questi percorsi poi possano proseguire anche con adeguate validazioni di competenze in un percorso universitario gli ITS sono a tutti gli effetti qualificati come livello 5 delle QF a livello europeo l'Europa ci chiede quanto più possibile di andare in questa direzione mi sento di lanciare questa sfida anche in questo contesto grazie grazie è una sollecitazione che prenderemo sicuramente e che porteremo avanti nei prossimi giorni chiede adesso a Paolo Collini che è il prolettore vicario delegato alla didattica grazie gli incontri sono stati molto utili da questo punto di vista perché ci siamo scambiati già molte informazioni quindi oggi credo possiamo riassumere un po' il senso di alcune riflessioni che noi abbiamo fatto in quella circostanza su questo specifico tema che è un tema che in Italia è molto trascurato e che ha avuto molti infelici tentativi di sviluppo negli anni passati che oscillano sempre tra un po' il voler l'università sempre occupare lo spazio che non è propriamente suo che è quello della formazione più professionalizzante e che in altri paesi invece è dato forse giustamente io credo a organismi di tipo diverso e dall'altro lato di tentativi di organizzare questa formazione senza l'università che forse ha delle competenze che può mettere a disposizione o comunque magari l'università non è sempre stata pronta a rispondere magari alle richieste quindi al di là del tema del riconoscimento poi di ciò che viene fatto in questi percorsi nei percorsi universitari che è un tema su cui si discute e si può discutere benissimo insomma non ci sono problemi dal punto di vista della riconoscibilità di ciò che è valido io credo che noi dovremmo cercare di immaginare che modello vorremmo dare a questo e qual è il contributo che noi università possiamo dare gli altri istituti di formazione che già sono molto attivi e hanno maturato ottima esperienza su questo il mondo della produzione delle imprese che è il vero soggetto con cui poi si lavora e già si lavora molto su questo e capire un po' quali sono i nostri contributi noi sicuramente possiamo dare contributi importanti in termini di conoscenze di messa a contatto col mondo della ricerca con i laboratori col mondo dell'applicazione delle conoscenze sul modo di fare didattica sulla certificazione che è un tema molto importante su cui dovremmo cercare di riflettere e credo che forse dovremmo pensare un po' di fare un salto di qualità tutti quanti nel cercare di immaginare un modello di questa formazione post diploma che dia valore sostanziale e di contenuto valore formativo più alto possibile a coloro che intraprendono questo percorso che non sia vista come un ripiego perché questo forse è uno dei problemi che noi abbiamo ma che sia vista invece come un'opportunità un'opportunità per le persone che escono dalla scuola superiore di crescere e di acquisire competenze che sia il luogo dove naturalmente come diceva la dirigente proprio adesso l'alternanza scuola-lavoro trova piena applicazione e quindi dove i momenti applicativi si coniugano molto bene con momenti di formazione anche più teorico concettuale perché ricordiamoci che comunque la teoria è sempre la premessa della sua applicazione ma la teoria orientata ha il saper fare e il saper applicare più di quanto noi non facciamo in università perché questo fisiologicamente non è il nostro mestiere principale cioè non è la nostra vocazione primaria e quindi io credo che noi dovremmo cercare non solo di rispondere all'esigenza di capire come dare legittimità a questi percorsi e quindi come renderli appetibili anche dal punto di vista della riconoscibilità che questi percorsi hanno eventualmente quando ciò è nelle aspirazioni dei ragazzi vedere come questi percorsi possano connettersi con i percorsi universitari ma anche come cercare di fare in modo che ciò che l'università sa fare possa coniugarsi di più essere più a disposizione di questi modelli formativi in cui l'università può dare un contributo non è ovviamente il soggetto principale o esclusivo ma che sicuramente può contribuire a dare appunto da un punto di vista metodologico di metodi didattici di valutazione di certificazione un contributo importante e credo che assieme potremmo cercare di immaginare anche forse una sperimentazione che anche magari rispetto a quello che avviene nel resto d'Italia possa essere anche un esempio che possa funzionare meglio di altre cose che forse non sempre hanno funzionato bene grazie e a conclusione di questo tema della scuola chiedo a Remo Job direttore del dipartimento di psicologia e scienze cognitive e delegato per la scuola bene buonasera mi unisco anch'io a ringraziamento agli organizzatori e vorrei brevissimamente descrivere i rapporti in atto fra scuola e università e utilizzando una felice definizione del collega Anzellotti direi che questo rapporto è speciale e naturale è speciale e naturale per svariati motivi ricordo che una parte significativa dei docenti della scuola trentina provengono dall'università di Trento molti docenti mantengono dei rapporti con l'università e questo da un lato porta prospettive nuove crea valore aggiunto per quanto riguarda le possibili azioni che noi andiamo poi a compiere nella scuola una parte significativa degli studenti trentini si iscrive all'università di Trento e se volete egoisticamente a noi piace pensare che trattenere gli studenti migliori del trentino costituisca un asset per l'università favorendo poi ovviamente la loro visione internazionale una volta iscritti all'università di Trento e quindi come studenti trentini la scuola trentina è il principale la principale sede di tirocinio per l'insegnante in formazione e quindi i tutor coloro che seguono dal punto di vista diciamo così più professionale gli insegnanti in formazione o accolgono gli insegnanti nelle loro classi costituiscono quindi un elemento particolarmente importante del processo formativo c'è quindi un circolo virtuoso fra qualità della formazione dei docenti e qualità della preparazione degli studenti mi piace pensare che questo possa articolarsi in tre ambiti l'ambito della formazione l'ambito della ricerca e l'ambito di quello che io chiamo le azioni congiunte su questo alcuni dati e alcune indicazioni di percorso per quanto riguarda la formazione degli insegnanti abbiamo i corsi abilitanti in collaborazione con il dipartimento della conoscenza del PAT e per quanto riguarda una particolare tipologia di percorsi abilitanti anche con la provincia di Bolzano sono state attivate sedici classi di abilitazione per quanto riguarda il tirocinio formativo attivo che è per l'appunto la nuova forma di abilitazione degli insegnanti e sono state duemila domande per l'anno accademico scorso con un'iscrizione di centocinquanta circa persone per quanto riguarda percorsi formativi speciali riservati a insegnanti già nell'ambito dell'insegnamento già insegnanti a scuola per almeno tre anni le classi di abilitazione che l'Ateneo Trentino ha attivato sono state trenta ci sono stati circa ottocento iscritti che si scaglioleranno nel corso del presente anno accademico in due anni accademici successivi per quanto riguarda l'abilitazione al sostegno e quindi insegnanti dedicati al sostegno di alluni con disabilità ci sono stati circa novanta iscritti quindici per la scuola dell'infanzia trenta per la scuola primaria trenta per la scuola secondaria di primo grado e quindici di nuovo per la secondaria di secondo grado infine per quanto riguarda i percorsi CLIL ovvero sia l'insegnamento curriculare in lingua due vi è come un'interessante collaborazione tra il dipartimento della conoscenza e le intendenze scolastiche di lingua italiana e lingua ladina della provincia di Bolzano e in questo anno accademico gli iscritti sono circa trenta abbiamo poi corsi e attività legati alla formazione in servizio la formazione permanente degli insegnanti in generale in collegamento con l'IPRASE e con la rete museale del Trentino molte attività diffuse tra i dipartimenti dell'università e un esempio che conosco personalmente quindi elaborato dal nostro dipartimento lo studio della mente e l'arte dell'insegnare coordinato dalla docente Claudia Cattani che per l'appunto è da noi presso l'università e ha visto trecento e trenta iscritti e quindi c'è questa motivazione a partecipare alla formazione in servizio che è davvero particolarmente importante vi sono poi delle attività per quanto riguarda i dirigenti per fornire loro delle competenze per quanto riguarda gli aspetti organizzativi manageriali e relazionali ricerca iniziative di ricerca con e nelle scuole sono davvero trasversali rispetto a tutti i dipartimenti convolgono i dipartimenti ai centri e con metodologie e temi ovviamente che riguardano le specifiche aree specifici ambiti con particolare però attenzione alla ricerca azione la ricerca è un aspetto di grande rilevanza per l'avanzamento delle conoscenze ovviamente ma qui vorrei sottolineare le potenzialità delle applicazioni nell'ambito scolastico che sono perseguibili e di fatto perseguite dai ricercatori infine quell'ambito che definisco azioni condivise per il perseguimento di fini in qualche modo comuni penso a lavori di gruppo su grandi temi come ad esempio la certificazione delle competenze il rapporto tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro promozione della cultura scientifica valorizzazione e promozione delle istituzioni educative per finire ritengo che la school of education dell'euregio possa avere un ruolo rilevante come per la messa in atto di queste possibili sinergie in un territorio che è geograficamente contiguo ma linguisticamente e culturalmente differenziale e quindi usando un termine del collega Boucher potrebbe essere diciamo così una palestra per la formazione degli insegnanti grazie grazie a Remo Job e posso assicurare come ha detto Paolo Collini che continueremo i lavori sperimentali con la scuola per ottenere dei risultati di cui poi parleremo anche l'anno prossimo ora parliamo di volontariato con il quale pure abbiamo avuto un pomeriggio interessante di riflessioni e chiedo a Roberto Bertolti dirigente del Dipartimento Protezione Civile della provincia autonoma di Trento riprendere la parola Buonasera a tutti mi associo anche ai ringraziamenti ai padroni di casa e lo faccio per tutti insomma Nacenzo Cipolletta e Dario De Pretis quello che è stato chiesto di illustrare oggi era l'organizzazione della protezione civile e con particolare riferimento alla parte del volontariato insomma voi sapete che la protezione civile di Trentina si basa su un aspetto si basa su sicuramente i professionisti perché alcune cose non si possono fare che attraverso i professionisti mi riferisco in particolare ai vigili del fuoco permanenti il servizio prevenzione rischi il servizio geologico il nucleo elicotteri insomma queste attività sono e devono essere svolge dai professionisti però i numeri ad esempio che caratterizzano questa attività dei professionisti sono relativamente pochi rispetto a quelli che invece caratterizzano l'attività diciamo del volontariato siamo 300 professionisti rispetto a circa 11.000 volontari quindi parlo di quest'ultimi non dimenticando i primi ma visto che il tema della serata riguarda proprio l'aspetto del volontariato e mi riferisco in particolare voglio nominare tutte le associazioni di volontariato che sono convenzionate con la protezione civile incominciando da quella che è sicuramente la più significativa cioè i vigili del fuoco volontari che rappresentano l'ossatura sulla quale appoggia la protezione civile di Trentina voi sapete che per legge ogni comune deve avere un corpo di vigili del fuoco volontari i quali evidentemente proprio perché sono diffusi capillarmente sul territorio conoscono il territorio conoscono gli uomini eccetera eccetera riescono anche di intervenire in maniera evidentemente più efficace poi c'è anche un altro aspetto un altro settore chiamiamolo così che è rappresentato dal soccorso alpino il soccorso alpino certamente rappresenta un'altra parte importante perché il territorio che ci caratterizza evidentemente non è sempre tutto voglio dire accessibile per cui il soccorso alpino opera laddove il terreno diventa impervio e c'è bisogno di una particolare preparazione e professionalità per intervenire poi c'è anche un'altra associazione che è altrettanto sono tutte importanti ovviamente che sono rappresentate dai nuvola i nuclei volontari alpini i quali voi sapete insomma che quando c'è un'emergenza una catastrofe una calamità insomma bisogna lavorare tutto il giorno e tutta la notte ma se poi trovi anche riesci a trovare anche un pasto la sera a caldo chiaramente la cosa ti si presenta sotto una luce diversa per cui il loro compito è proprio solo quello di vettovagliamento di preparare da mangiare insomma logistico per capirci poi un'altra associazione a Croce Rossa italiana la quale evidentemente potete già immaginare qual è il compito che svolge all'interno della protezione civile i cani da ricerca da catastrofe che sono una componente che noi attiviamo in particolar modo sul nostro terreno ad esempio per la ricerca di persone scomparsi sicuramente fanno un ottimo lavoro riescono tante volte insomma a raggiungere il loro obiettivo e poi gli psicologi per i popoli che è un'associazione che in caso appunto di calamità è importante attivare per dare un supporto sia alle popolazioni colpite ma anche certe volte e soprattutto ai soccorritori stessi perché vi assicuro che in certe situazioni ne hanno assolutamente bisogno vorrei chiudere perché mi è stato chiesto di fare un intervento brevissimo perché appunto il tempo va per le lunghe altrimenti ricordando cercando di ricordare quali possono essere i collegamenti fra queste associazioni di volontariato o comunque la protezione civile in genere e l'università beh prima è stato parlato ad esempio delle universiadi credo che questo sia stato un ottimo esempio di collaborazione fra appunto la protezione civile e tutta perché vi assicuro che è stata impegnata e i volontari che i volontari non di protezione civile sto parlando ma i volontari insomma i studenti anche ad esempio tutta l'altra parte di volontari che hanno organizzato questa universiadi sicuramente è stato un bel esempio insomma nella quale si è fatta collaborazione ma entrando un pochino più nel come dire insomma nell'accademico se vogliamo giudicarlo così ecco io credo che ci siano insomma siamo in contatto col DICAM per dire per cui ce ne sono possono essere diverse le collaborazioni di studenti ad esempio all'interno comunque della protezione civile visto che è anche un insegnamento tra il resto uno degli esami si chiama proprio così possono trovare posto perché ce ne sono tanti argomenti insomma che possono essere fatti assieme in particolare non so mi riferisco ai piani di protezione civile comunali insomma al piano di protezione civile provinciale lì sì che ci si può sbizzarrire finché si vuole insomma collaborando e facendosi aiutare ed anche insegnando agli studenti come si può eventualmente intervenire oppure anche qualcosa relativamente proprio come dire alle comunicazioni perché voi sapete che una delle cose più importanti e più difficili da fare in presenza di un'emergenza è quella di avvisare la popolazione che sta avvenendo qualcosa non è facile vi assicuro tutti gli avvisi di garanzia ultimamente sono arrivati sono arrivati proprio per una mancanza di informazione alla popolazione quindi anche lì è un settore che sicuramente potrebbe andare sviluppato grazie 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 siamo verso la fine quindi prego di essere volontariamente brevi e chiedo adesso a Riccardo Zandonini il professore ordinario di tecnica di ricostruzioni e fare il suo intervento grazie grazie mille io sarò estremamente breve vorrei partire dalla mia esperienza personale io sono un ingegnere civile mi occupo di terremoti quindi ho avuto modo di lavorare con la protezione civile si vedevano prima anche delle immagini degli interventi fatti all'Aquila in Emilia e di apprezzare in modo particolare certe caratteristiche organizzative della nostra protezione civile io credo che il territorio trentino possa essere assolutamente fiero perché sul territorio ma al di là del territorio ha delle competenze un'organizzazione che sono praticamente uniche dall'altra parte nel nostro Ateneo devo dire che il problema delle emergenze il problema dei rischi è un problema che è stato ed è studiato con particolare tenacia quasi nel tempo io vorrei riferirmi prima che a noi che ci occupiamo di terremoti anche al Cudam che si occupa di un aspetto del rischio ideologico che è estremamente importante quanto i terremoti e per il trentino in particolare anche più dei terremoti visto che il trentino solo nella parte sud è zona sismica lavorare insieme quindi io credo che e cito solo gli aspetti ingegneristici ma sicuramente ci sono gli aspetti giuridico-economici che sono anche più complessi in certi casi di quelli ingegneristici tutte queste competenze io penso che messe a lavorare insieme possono produrre degli effetti importanti importanti per la comunità trentina per l'accademia e per il paese perlomeno e partiamo pure dalla formazione che prima veniva citata dal dirigente della protezione civile io sulla formazione credo che ci sia molto da fare in comune per due su due direttrici una è quella del fatto che anche i tecnici che escono dalle nostre università non si trovano ovviamente pienamente preparati a lavorare nelle emergenze e credo quindi che insieme anche agli ordini professionali oltre che la provincia sia possibile assolutamente fare insieme un cammino di formazione che ci prepari alle emergenze che purtroppo sempre più spesso avvengono i cambiamenti climatici diciamo stanno abituandoci a delle situazioni di rischio che una volta non erano tipiche del nostro paese e su questo quindi dobbiamo prenderne atto e essere pronti secondo aspetto che credo sia importante e su cui insieme alla provincia si può fare molto è aprire in qualche modo a questa diciamo voglia di volontariato che continuiamo a sottolineare in maniera da poter organizzare nell'emergenza e coinvolgere una classe ancora più ampia di persone che potrebbero in realtà essere di supporto al di là di quelle che sono le strutture tipiche ben organizzate che citava prima Bertoldi penso però che ci sia anche un modo di lavorare insieme che può essere sfruttare la stima che a livello nazionale la protezione civile trentina quando si cita l'eccellenza si cita la protezione civile trentina questo presso la protezione civile nazionale quindi io credo che questo vada fatto insieme cioè l'idea che tra un'emergenza e l'altra è necessario fare tutto un lavoro di miglioramento e di preparazione come ingegnere civile vi cito una cosa banale su cui si potrebbe e si dovrebbe lavorare c'è l'emergenza noi siamo chiamati a dare una una casa temporanea alle persone che sono state diciamo violentate dall'emergenza sismica o dall'emergenza ideologica e in quel momento ci chiediamo come fare gli appalti come sostanzialmente metterci di fronte a questo in maniera efficiente nell'emergenza non siamo nella condizione per fare il migliore lavoro il migliore lavoro sarebbe quella di metterci insieme a preparare tutta una serie di elementi che ci garantiscano di lavorare con serenità nell'emergenza e quindi cominciare ad avere delle certificazioni tecniche sui sistemi di intervento che permettano di non essere vittime in qualche modo dell'urgenza che nasce e su questo io credo che il Trentino nel suo complesso può avere una voce e farsi ascoltare a livello nazionale per evitare anche tutta una serie di problematiche che noi conosciamo purtroppo bene e che è sempre meglio diciamo rispondendo al vecchio adagio prevenire più che dovere dopo cercare di affrontare nel miglior modo possibile nell'emergenza grazie del volontariato Francesca Fiori e Gidio Formilan coordinatrice del servizio volontariato della provincia di Trento e responsabile dell'ufficio studio della cooperazione trentina buonasera a tutti io sono Francesca Fiori sono la coordinatrice del centro servizi volontariato della provincia di Trento che è un'organizzazione che a rispetto di quello che generalmente si pensa è un'organizzazione privata un po' particolare il centro servizi nasce in base alla legge 266 la legge quadro del volontariato del 91 e ha il compito quello di supportare la crescita qualitativa e quantitativa delle organizzazioni che sono presenti sul nostro territorio la nostra mission poi ha subito delle evoluzioni successive per stare un po' a passo coi tempi e quindi abbiamo aggiunto oltre questo importante compito anche la promozione più in generale di ogni forma ed espressione di cittadinanza attiva è facilmente intuibile quindi che cosa facciamo da una parte tutta una serie di iniziative che vanno a supporto del volontariato quindi delle organizzazioni e da un'altra parte tutta invece una serie di iniziative che sono rivolte più generalmente alla cittadinanza con un focus preciso sui giovani che hanno come obiettivo quello di trovare anche nuove forze che possano inserirsi all'interno delle associazioni nell'ottica come diceva prima anche il sindaco della città di Trento di continuità del settore ma anche di introdurre delle innovazioni importanti perché è possibile innovare anche nel settore sociale anzi è doveroso farlo detto questo l'altra grande diciamo azione nostra e quindi le altre iniziative sono i rivolti invece al rafforzamento delle capacità e delle competenze del mondo del volontariato un mondo che ovviamente affronta come tutti quanti una crisi diciamo economica valoriale e anche generazionale e che per stare proprio a passo con i tempi adesso che si richiede soprattutto il suo intervento in un welfare fatto a più mani dove il volontariato deve giocare un ruolo distintivo come lì è consono e proprio ha bisogno di competenze sempre più specifiche e particolari e quello che fa il centro servizi è quindi cercare di fornire queste competenze sia con azioni dirette quindi interventi formativi o accompagnamenti di tipo consulenziale ma cercando anche di sollecitare la capacità di risposta presente sul nostro territorio sulla nostra comunità tra tutte queste competenze vi posso assicurare che quello che più fa paura alle associazioni di volontariato è una particolare diciamo gruppo di competenze chiamiamole giuridiche amministrative civilistiche fiscali giustlavoristiche che permettono alle associazioni di essere gestite in maniera corretta e quindi di avere anche poi un'azione concreta che sia di un certo impatto e spaventano perché siamo di fronte ad una normativa nei confronti del non profit che è sempre in continua evoluzione che quindi diciamo un po' spiazza chi si deve occupare poi dell'amministrazione di queste associazioni di queste organizzazioni e recentemente infatti sono state emanate le linee guide dal governo Renzi sulla riforma del terzo settore una riforma che quindi avrà poi degli effetti concreti e diciamo molto pratici sulla vita quotidiana delle nostre organizzazioni di volontariato da qui l'idea quindi di creare proprio in quest'ottica di economia della collaborazione di scambio e di interconnessione tra volontariato e territorio un ponte tra università e associazioni di volontariato e ci siamo chiesti perché non mettere in contatto gli studenti soprattutto della facoltà di giurisprudenza quindi gli studenti che si occupano di quella materia temutissima dalle nostre organizzazioni con le associazioni e fare degli stage mirati che permettano quindi da una parte alle associazioni di affrontare serenamente tutte le questioni che più li spaventano e quindi diciamo riuscire ad arrivare ad una gestione corretta della propria organizzazione e dall'altra sicuramente l'opportunità per gli studenti di poter mettere in pratica quello che poi vanno via via studiando nel loro percorso di studi senza dimenticare poi le aspetti importanti legati ad un'esperienza di volontariato l'hanno ricordato anche gli interventi che mi hanno preceduto la possibilità di acquisire le cosiddette competenze trasversali come le competenze relazionali la capacità di ascolto il lavoro cooperativo che nessuno ti insegna sicuramente nei banchi di scuola ma che sono molto importanti anche in un'ottica di ingresso nel mercato del lavoro che è sempre più difficoltoso per i giovani e soprattutto l'opportunità di fare un'esperienza che è arricchente sotto il profilo di crescita personale e che concorre quindi alla formazione dei cittadini odierni ma anche dei professionisti del futuro grazie bene buonasera a tutti e grazie per l'invito come cooperazione trentina promuoviamo ogni anno una serie intensa di iniziative di educazione cooperativa nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia e lo facciamo non solo per far conoscere meglio cos'è come funziona e quale importante il ruolo economico e sociale ricopre il sistema cooperativo per la nostra comunità ma anche per rispondere a un compito educativo che è parte integrante dei principi e dei valori di riferimento nel movimento cooperativo locale nazionale e internazionale la metodologia che utilizziamo è quella delle ACS associazioni cooperative scolastiche si tratta di una simulazione di impresa cooperativa basata su unità di apprendimento proposte con modalità non formali e sostenute da strumenti di validazione delle competenze acquisite i protagonisti naturalmente sono gli studenti che si impegnano con il supporto di esperti e insegnanti nella definizione dello statuto sociale della propria ACS nelle lezioni delle cariche sociali condividono gli obiettivi e definiscono il programma delle attività imparano a prendere decisioni in modo democratico distribuendosi ruoli e compiti e rendicontando in logica di bilancio sociale quanto viene fatto gli studenti hanno poi hanno così la possibilità di acquisire e sperimentare in modo attivo alcune competenze cooperative che sono però nel contempo competenze di cittadinanza altamente educative esacitando responsabilità mutuo aiuto solidarietà collaborazione lavoro associato inclusione sociale gestione democratica e interesse per la comunità da qui il protocollo d'intesa per l'educazione cooperativa nelle scuole che è stato firmato nel 2012 arriva del Garda tra la federazione trentina della cooperazione e la provincia autonoma di Trento negli ultimi anni queste esperienze educative hanno assunto nelle scuole secondarie di secondo grado e nei centri di formazione professionale una decisa valenza di orientamento attivo al lavoro è il caso ad esempio della sperimentazione in corso in collaborazione con l'IPRASE e il liceo Filzi di Rovereto per creare un inedito percorso professionalizzante ad indirizzo cooperativo il percorso comprende anche l'attivazione in logica di alternanza scuola-lavoro di tirocini di qualità in cooperativa l'interazione strutturata tra tutor aziendali e tutor scolastici la definizione del set di competenze da sperimentare e validare a livello di impresa e il riconoscimento finale di crediti formativi alcuni istituti di istruzione superiore e centri di formazione professionale ci stanno però chiedendo di fare qualcosa di più l'idea è di mettere a disposizione degli studenti un ambiente di apprendimento non simulato organizzato in forma di impresa cooperativa da utilizzare come contesto reale di alternanza e di transizione scuola-lavoro un'impresa vera in altre parole ma con forte valenza formativa una prima sperimentazione è stata avviata con l'istituto professionale alberghiero di Levico e Rovereto l'istituto in collaborazione con la federazione trentina della cooperazione ha costituito la cooperativa lievito madre la cooperativa è pensata per permettere agli studenti soci di prendere in gestione diretta strutture ricettive della ristorazione sperimentando le proprie competenze in un contesto di auto imprenditorialità da integrare nel curriculum formativo e che possa fornire un primo sbocco lavorativo post diploma la categoria cooperativa scelta è stata quella della cooperativa sociale di tipo B le norme vigenti in materia cooperativa appaiono tuttavia poco adatte a supportare attività imprenditoriali a vocazione formativa di questo tipo da un punto di vista civilistico c'è ad esempio la necessità di approfondire il tema dell'adesione a socio i soggetti minorenni c'è poi l'assetto gius lavoristico che andrebbe approfondito rispetto a logiche di alternanza e di transizione scuola lavoro così come esiste la necessità di valorizzare la natura multi stakeholder dell'impresa nella relativa governance per questo ci sentiamo di proporre all'università di aprire un tavolo di collaborazione per utilizzare la competenza legislativa primaria della regione in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative l'obiettivo è di creare una specifica e più adatta categoria cooperativa denominata cooperativa di transizione scuola lavoro a imitazione di quanto fatto nel 1988 dalla regione Trentino Alto Adige City Hall con l'approvazione prima in Italia della legge numero 24 sulle cooperative di solidarietà sociale grazie grazie darà una risposta il presidente della facoltà di giurisprudenza Giuseppe Nesi signor presidente visto che la facoltà di giurisprudenza è stata chiamata più volte in causa ci fa piacere che il mondo si dedichi attenzione ovviamente anche alle conoscenze giuridiche che da alcuni sono viste anche come dei misteri o qualcosa che è riservato soltanto agli addetti ai lavori in realtà da tempo la facoltà di giurisprudenza tanto nel settore del volontariato quanto nel settore della cooperazione incoraggia soprattutto gli studenti ma non solo gli studenti anche i nostri docenti a approfondire le tematiche che sono così care peraltro come abbiamo visto dalle precedenti testimonianze a questo territorio e devo dire che sempre di più nei prossimi mesi incoraggeremo soprattutto i nostri studenti a intraprendere dei percorsi di volontariato che a nostro avviso diventano fondamentali come ha ricordato anche la signora Fiori non soltanto per tentare ovviamente con le conoscenze forse ancora non sempre del tutto mature degli studenti di dare i necessari chiarimenti al complesso di leggi e di regolamenti che dovrebbe disciplinare la disciplina del settore del volontariato ma anche ad avere una migliore percezione delle tematiche giuridiche che concernono la cooperazione ma dirò di più in verità non vogliamo soltanto incoraggiare gli studenti a affrontare nel periodo magari finale che prelude al loro ingresso nel mondo del lavoro l'esperienza del volontariato o l'esperienza anche dell'approfondimento delle questioni giuridiche concernenti determinati temi vorremmo tentare di fare in modo che ci sia una continuità perché il problema ovviamente nel fare gli stage è che gli stage potrebbero finire col costituire degli episodi nel percorso formativo degli studenti in particolare noi dovremmo cercare invece di fare in modo che da queste esperienze gli studenti tragano interesse anche per creare le condizioni per poter eventualmente lavorare tanto nel settore del volontariato quanto nel settore della cooperazione che per certi versi vanno diciamo mano nella mano un'ultima cosa che vorrei dire è che in realtà e questo vale per il volontariato vale per la cooperazione ma vale in realtà per le imprese in generale vale per tutte le attività economiche trentine noi da da tempo abbiamo diverse convenzioni che invitiamo anche in questa sede a sfruttare più adeguatamente dovremmo e potremmo fare di più ma per far questo dobbiamo essere aiutati dai principali operatori economici e sociali di questo territorio a farlo grazie conclude questa parte Marco Tubino direttore di DICAM e presidente del comitato scientifico del centro della formazione della solidarietà internazionale Marco grazie presidente buonasera a tutti il mio compito un po' difficile perché è l'ultimo intervento ma quindi dovrò stare assolutamente nei tempi ho partecipato a questo incontro preliminare con le associazioni di volontariato è stato un incontro molto ricco un incontro che ci ha fatto capire come in realtà il mondo del volontariato incontri tutte e tre le missioni che la rettrice ha ricordato all'inizio della presentazione del piano strategico l'università fa ricerca formazione e fa trasferimento direi fa condivisione di conoscenza più che trasferimento una parola forse più adeguata a identificare quello che può essere il rapporto dell'università col mondo del volontariato bene nell'incontro che abbiamo fatto abbiamo scoperto che quasi tutto quello che l'Ateneo oggi fa e copre tutto il suo sapere diciamo può trovare sul territorio una richiesta una domanda una domanda di supporto ma soprattutto una domanda di condivisione di tematiche e dal mondo del volontariato sono emerse diverse domande all'università da quella più semplice ossia ci sono 16.000 studenti e quindi c'è molta forza al lavoro ma in realtà è la richiesta che è venuta dal mondo del volontariato una richiesta molto specifica ci sono 16.000 studenti quindi persone che sono in formazione che hanno già una cultura hanno già competenza e quindi possono essere molto positivamente introdotte in un circuito dove in realtà molti di loro sono già introdotti come abbiamo scoperto anche nell'incontro diciamo che ha preparato questa assemblea c'è molta richiesta anche nei confronti di competenze che vengono prodotte dall'università e credo che l'università sempre attenta a cogliere i bisogni della società e a dare risposte possa trarre dagli stimoli che il mondo del volontariato dà occasioni per approfondire ricerche che forse come dire non immaginiamo all'interno delle nostre stanze nei nostri laboratori cito un'esperienza in particolare importante che si è costituita cinque anni fa ad opera della provincia dell'università di Trento della fondazione campana di Rovereto e della fondazione della cooperazione un centro il centro per la formazione alla solidarietà internazionale centro che ha sede presso il convento di San Marco e che da cinque anni opera nel campo della solidarietà internazionale è un luogo dove l'università i suoi studenti i suoi docenti la popolazione civile tanti operatori della cooperazione si incontrano oramai sistematicamente da cinque anni è un luogo dove vengono elaborati i progetti si fa formazione sostanzialmente soprattutto si cerca di fornire alle tante associazioni di volontariato presenti nel territorio la capacità di gestire i progetti con qualità si cerca di offrire occasioni di formazione ma anche soprattutto di incontro con il contesto nazionale e internazionale in questo proposito citavano i rappresentanti dei studenti l'esigenza di vedere riconosciute queste attività e stiamo lavorando in modo tale che si possono proporre insieme dei percorsi quelli che chiamiamo gli honors program cioè percorsi di qualificazione all'interno dei quali può essere riconosciuta l'ulteriore formazione specifica o le attività di stasi tirocinio che gli studenti possono svolgere nel campo della cooperazione internazionale così come nel campo delle tante altre attività che vedono coinvolte insieme l'università e l'associazione di volontariato termino con una parola più interna cioè rivolta all'università e le sue politiche e le sue strategie internazionali le ha ricordate la rettrice credo che sia importante avere anche fra le strategie internazionali quella di essere presenti nel supporto alla formazione alla creazione dei sistemi di alta formazione e ricerca in tutti quei paesi che chiamiamo impoveriti e che sono diciamo in questo momento in situazioni di evidente difficoltà credo che questo sia importante come diciamo uno degli aspetti fondamentali della politica internazionale di questo Ateneo grazie a tutti e buonasera grazie a Marco Tubino come per la scuola anche per il volontariato continueremo a lavorare l'università può fornire braccia ma anche cervelli per la soluzione dei problemi e questo con questo vi abbiamo dato conto dei lavori che abbiamo fatto con scuola e volontariato adesso l'assemblea va avanti con una piccola cerimonia breve di consegna dei diplomi ai migliori dottori di ricerca da parte della rettrice Daria De Pretis che farà la consegna si procede ora la consegna dei diplomi da attribuire ai migliori dottori di ricerca e ai migliori laureati dell'anno accademico 2011-2012 segnalati dai rispettivi dipartimenti invitiamo i premiati a raggiungere la magnifica rettrice per la consegna della pergamena mattia mattia bacca della scuola di dottorato di ingegneria civile ambientale e meccanica daniele castello della scuola di dottorato di ingegneria civile ambientale e meccanica Eric Dassi della scuola di dottorato di scienze biomilicolari Anna Fedrizi della scuola di dottorato di materiali meccatronica ingegneria dei sistemi Raffaele Guetto della scuola di dottorato sociology and social research Luca Lorenzi della scuola di dottorato informatica e telecomunicazioni Silvia Pagano della scuola di dottorato cognitive and brain sciences Paola Widman della scuola di dottorato di studi giuridici comparati ed europei si passa ora ai migliori laureati Cinzia Benini del dipartimento di sociologia e ricerca sociale Mattia Biesuz del dipartimento di ingegneria industriale Andrea Filippi del dipartimento di ingegneria civile ambientale e meccanica Alessandra Quaranta del dipartimento di lettere e filosofia Marino Svaldi del dipartimento di economia e management Alberto Zanella del dipartimento di ingegneria e scienza dell'informazione Vi segnaliamo inoltre i migliori dottori di ricerca e i migliori laureati che non hanno potuto essere presenti per la consegna dei diplomi Simone Cerroni Elsie Furi Giovanni Franzina Wick Maria Hackman Marco Larker Luca Bonetti Valentina Borghesani Alessio Gracis Tommaso Milani Maris Squayevix Luca Spolaro Spolaur scusate adesso ci sarà la foto di gruppo grazie a tutti Grazie. 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 Grazie dei ragazzi 150 ore e Giorgia Floriani che mi ha dato una grande mano nell'organizzazione di questa assemblea. A voi tutti vi ringrazio per essere stati qui presenti.